benvenuti all'inizio del pomeriggio per quanto riguarda le attività di terra evolute festival della bonifica eh questo pomeriggio il tema è il deflusso ecologico dalla teoria alla pratica opportunità e criticità per il fiume e il territorio eh procediamo prima abbiamo quattro interessanti interventi di quattro colleghi e amici sostanzialmente che ci che ci illustreranno il problema sotto diversi punti di vista e a seguire una tavola rotonda arrivati a questo punto senza indugi chiamerei subito Francesco Napolitano dell'Università La Sapienza di Roma a partire con il primo con il primo intervento che riguarda gli aspetti idrologici nell'individuazione del deflusso ecologico grazie Paolo si sente si sente si sente molto bene grazie Paolo un sentito ringraziamento al comitato organizzatore di terre evolute in particolare il presidente di ambi Massimo Gargano e la collega Elisabetta Novello alla quale dobbiamo l'organizzazione di questo di questo convegno inizierò una più che altro dopo il merlot della della sosta della della pausa pranzo parlare di deflusso ecologico è abbastanza impegnativo quindi credo di fare una farò una chiacchierata di di sistema cercando di inquadrare il tema del deflusso ecologico dal punto di vista normativo funziona non vedo la presentazione eccolo qua è in particolare mi soffermerò quindi su quattro punti essenziali il primo è un inquadramento generale sulla norma e sulla metodologia con la quale individuare questo parametro di riferimento per i corsi d'acqua che è il deflusso ecologico partendo dal suo progenitore che è il deflusso minimo vitale cercando di delineare qualche aspetto critico di carattere idrologico per nella sua valutazione fare qualche esempio eh di applicazione in alcuni in alcune realtà eh tra le quali questa dove siamo ospiti eh e poi cercare di delineare gli impatti e le opportunità per il fiume il territorio eh sui delle aspetti dei quali chi mi seguirà avrà modo di eh illustrare eh sicuramente meglio quali sono eh questi problemi eh partiamo da da in parte da lontano in realtà il deflusso minimo vitale è un'esigenza che del 1989 con la legge eh quadro sulla difesa del suolo è stato introdotto per cercare di razionalizzare gli usi competitivi eh della risorsa soprattutto per disciplinare il sistema delle concessioni dopo un po' di tempo è diventato uno strumento di tutela ambientale ed è stato inserito nei piani eh di tutela eh delle acque. In particolare il deflusso minimo eh vitale rappresenta un valore di portata che deve essere eh conservato nel corso d'acqua al fine di eh cercare di contemporare sia l'esigenza di tutela ambientale ma anche eh individuare e disciplinare e risolvere potenziali conflitti tra diversi utilizzatori a monte e a valle di uno stesso eh corso d'acqua. Eh perché parto dal deflusso minimo vitale quando si parla di deflusso ecologico perché fondamentalmente al di là della finalità nuova con la quale eh è stato pensato questo indicatore di fatto eh si continua a parlare di eh un indicatore che eh è fondamentalmente sempre lo stesso lo chiamiamo in modo diverso ma alla fine cerca di disciplinare eh un eh qual è quel livello d'acqua eh che deve essere lasciato al corso d'acqua per poter eh far sì che questo in qualche modo viva continua a vivere in maniera in maniera naturale il problema è stato nella determinazione del deflusso minimo vitale perché per poterlo determinare andavano presi in considerazione diversi aspetti di carattere naturalistico e idrologico geomorfologico ogni tanto va e viene di carattere naturalistico e alcuni aspetti naturalistico e alcuni aspetti di carattere antropico sull'uso che eh dei corsi d'acqua viene fatto con il sistema di regolazione eh fluviale e dei diversi usi eh delle derivazioni che possono essere assentite all'interno degli albi degli albi fluviali eh il problema nasce dal fatto che per poterlo calcolare bene occorre individuare determinati eh informazioni di carattere idrologico i primi due punti che vedete in questo elenco e poi altre eh caratteristiche di carattere idrodinamico eh morfologico e di carattere biologico ambientale eh la cui il cui riperimento dei dati non è semplice occorre eh comunque conoscere a fondo dal punto di vista idrologico idraulico e biologico il corso d'acqua per poter definire correttamente eh eh questo questo indicatore questo indicatore che può essere eh calcolato in maniera più o meno semplice utilizzando diversi metodi partendo da quelli più semplici che tengono conto soltanto di variabili morfologiche alcuni con variabili idrologiche più o meno semplici eh fino eh alla a un'individuazione che era fatto esclusivamente per via statistica utilizzando eh serie di eh portate che dovevano essere in qualche modo naturalizzate tenendo conto dei prelievi eh presenti sul corso d'acqua cosa che è generalmente abbastanza complicato perché eh in tutti i corsi d'acqua il catastro dei prelievi non è facilmente individuabile. Un cambio di paradigma è stato fatto su impulso della comunità europea nel duemila e dodici con eh l'emanazione delle nuove linee guida sul deflusso ecologico eh in particolare viene introdotto questo nuovo concetto eh di appunto di deflusso ecologico o ecological flowing in inglese che è appunto il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continua a prosperare e eh fornire servizi necessari quindi si sposta eh il l'obiettivo non tanto sul mantenimento di un certo livello di portata di un corso d'acqua ma del mantenimento di una certa di un certo benessere biologico all'interno del eh del corso d'acqua individuato in in qualche modo eh la dire come tutte le direttive europee forniscono una cornice di metodo e normativo che i paesi membri debbono essere eh chiamati a a soddisfare molto spesso l'ha detto qualcuno stamattina mi è mi è sfuggito adesso non mi ricordo chi però generalmente noi in Italia arriviamo a dopo le direttive quadro comunitaria a a a partita iniziata e quindi tocchiamo palla ma non abbiamo fatto le regole del gioco comunque nel duemila e diciassette il ministero dell'ambiente eh della tutela del territorio e del mare emana una decreto direttoriale quindi anche con una fonte normativa non particolarmente elevata e eh disciplina eh affinché questo valore sia eh realizzato dal punto di vista eh su tutto il territorio nazionale con metodologie condivise con metodi scientificamente eh proprio perché eh alla alla luce dell'applicazione del deflusso minimo vitale negli ultimi eh vent'anni si era vista una forte eterogeneità di metodi eh sul territorio nazionale addirittura all'interno di stessi contesti eh idrografici all'interno del eh delle autorità di 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 distretto eh si cambia un parte paradigma eh e si definisce eh a si cerca di individuare delle le cosiddette portate eh naturali che non significa riportare i corsi d'acqua alla alla naturalità di un tempo ma significa cercare di rendere il flusso di un corso d'acqua il più naturale il più naturale possibile e questo per esempio il territorio che da questo punto di vista eh può presentare eh dei problemi di interpretazione perché è evidente che tutte le opere idrauliche che sono state fatte in questo territorio hanno reso il governo dei deflussi in questo territorio sicuramente non naturale perché l'uomo ci ha messo eh ci ha messo le mani realizzando reti, canali, bonificando eh terreni, irrigando, irrigando dove eh l'acqua naturalmente non eh non arrivava. In particolare il deflusso ecologico viene definito come quel regime idrologico che in un tratto idraulicamente omogeneo è di un corso d'acqua che appartiene a un corpo idrico all'interno del piano di gestione dei distretti idografici e conforme al raggiungimento di alcuni obiettivi che sono disciplinati eh dal direttiva quadro eh delle acque. Quindi eh questo indicatore eh di fatto eh introduce la necessità di cambiare il modo con il quale eh individuare questo valore di portata all'interno eh dei distretti idografici. In particolare eh agli esiti di questa nuova direttiva si è fatto una ricognizione sulle modalità con le quali veniva eh calcolato il deflusso minimo vitale si è visto che dal punto di vista idrologico eh i metodi erano fortemente eterogenei eh non c'erano correlazioni tra deflusso minimo vitale e lo stato ambientale eh dei corpi idrici e c'era una forte eterogeneità sulle formule di calcolo proprio utilizzate per eh individuare questo indicatore di fatto rendendo soggettivo questa questo valore all'interno eh del territorio. Questo è il motivo per il quale il Ministero dell'Ambiente ha proposto un tavolo tecnico ha individuato un'esigenza cioè quella di sviluppare su ogni distretto territorio distrettuale metodologie di definizione del deflusso ecologico che fossero le più uniforme possibili scientificamente avanzate e per riuscire ad avere una valutazione il più possibile eh oggettiva. Eh i metodi sono anche qui eh vari e dipendono dai dati che abbiamo a disposizione e qua c'è un problema strutturale per il nostro paese che è la carenza di monitoraggio di alcune grandezze idrologiche idrauliche e adesso anche biologiche di riferimento per poter applicare questi metodi che a seconda del tipo di informazione disponibile della quantità e della qualità dei dati possibile utilizzare metodi basati soltanto sull'idrologia, su base biologica oppure metodi misti idraulico habitat di cui sicuramente dopo vedremo eh delle delle applicazioni assolutamente all'ordine del del giorno e e e aggiornate. Dal duemiladiciassette a oggi le autorità di distretto si sono date da fare eh qui vedete alcuni alcuni report eh quelli che sono più avanti e proprio dove stiamo oggi il distretto delle Alpi orientali ha prodotto un approccio metodologico per la determinazione del flusso ecologico e ha anche eh emanato delle linee guida per la sperimentazione eh la verifica e la sperimentazione di questi di questi metodi che si sta avviando alla conclusione anche in Toscana e Lombardia hanno fatto qualcosa e anche eh eh alcuni stakeholder per esempio Litcold che si eh che gestisce o meglio che riunisce il comitato nazionale eh per le grandi dighe si è eh 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 esercitata sul sul tema. Le formule sono eh sono diverse in fondo questa quella che quella che vediamo qui eh della regione Lombardia potremmo vedere questa che in uso alle Alpe orientali di fatto sono formule più o meno semplice dove ci sono dei parametri che dipendono da alcune caratteristiche in particolare l'idrologia viene eh definita dal parametro dal parametro K che è un fattore di protezione che fondamentalmente dipende dalle condizioni di deflusso all'interno del eh del corso d'acqua. Si dovrebbero utilizzare metodi idrologicamente avanzati per definire eh un certo valore di portata eh per esempio quella di sette giorni consecutivi che ha una frequenza di accadimento pari a dieci anni di tempo di ritorno che era un indicatore che poteva essere utilizzato eh per eh definire statisticamente eh una portata di riferimento fondamentalmente si fa ancora riferimento alla portata media annua e a questo fattore K che di fatto è una è una coefficiente di proporzionalità che abbatte eh questo valore eh questo valore. In teoria bisognerebbe conoscere la curva di durata delle portate dovremmo essere in grado di eh capire da questa il deflusso di base naturalizzando i deflussi capire eh se eh come eh i picchi di piena i momenti di scarsità idrica condizionano le alterazioni del deflusso che hanno impatti ecologici molto forti eh e tutto questo ovviamente deve essere investigato ma deve essere investigato eh con un un metodo che è quella della partecipazione della condivisione degli attori eh dei cosiddetti portatori di interesse eh anche la stessa direttiva comunitaria sollecita eh una partecipazione eh più ampia possibile dei portatori di interesse perché è evidente che eh l'hanno detto stamattina interessi eh di chi sta a monte con quelli di con coloro che stanno a valle collidono in qualche modo eh vanno in in conflitto tra loro. Eh a titolo d'esempio portatori di interessi sono eh i gestori dei servizi idrici integrati, i consorsi di bonifica, i produttori elettrici, i distretti industriali, i pescatori, i diportisti, le associazioni ambientali, è evidente che eh hanno tutti un obiettivo eh che in qualche modo può collidere l'uno con l'altro. Questo è il motivo per il quale quando eh si crea una norma eh che ha poi valore cogente dobbiamo preoccuparci che all'applicazione della norma non si facciano troppi e passatemi il termine eh danni collaterali sul territorio o sul corso d'acqua perché è evidente che eh le eh gli obiettivi di ciascun portatore di interesse in qualche modo eh viene viene toccato eh per non andare lontano da da questo posto la nel duemiladiciassette eh il distretto geografico delle Alpe Orientali ha ehm ha introdotto una eh una di libera che ha valore decogente che andrà in vigore nel duemila e ventidue. Alla luce di questo è sicuramente inevitabile eh inevitabile che questi provvedimenti eh normativi eh incidono già o o incideranno sicuramente sulla produttività degli impianti idroelettrici in esercizio condizioneranno il rinnovo delle concessioni senza alcun dubbio così come incideranno sulle attività eh dei consorsi di bonifica eh per quanto riguarda eh le concessioni idriche eh chi vorrà produrre energia ovviamente dovrà eh esercitarsi su questo tema cercando di capire qual è questo valore che dovrà essere comunque rilasciato e che verrà sottratto eh alla produzione e i consorsi di bonifica se da un lato possono essere spinti ad avere una politica virtuosa sul riuso sul risparmio sulle nuove tecnologie di infrastrutturazione sicuramente avranno avranno eh dei problemi da da questo punto di vista perché eh la risorsa è quella che è la coperta è piccola eh e corta eh l'assetto idraulico del territorio ovviamente si potrà eh modificarsi in modo significativo eh modificando l'uso della risorsa tra diversi usi già in essere l'uso ricreativo dei laghi eh a nord eh l'uso idropotabile l'uso agricolo e per la produzione. Grazie. Grazie mille. Grazie a Francesco Napolitano. Grazie per questa visione generale. Eh in una delle parti che caratterizzano il deflusso ecologico ovvero sia la parte più idrologica quella che riguarda la quantità dell'acqua. Adesso chiamo Guido Zolezzi dell'Università di Trento eh probabilmente è un lavoro a due mani vedo qua da quello che c'è scritto ma presenta lui sostanzialmente che invece ci fa si sottolinea come nella nascita nell'idea del deflusso ecologico proprio per andare oltre il DMV eh ci sono degli aspetti appunto di ecoidraulica che sono rilevanti e come questi contano. Infatti non solo sono i parametri ideologici quelli che devono essere valutati. Prego Guido. Grazie. Grazie Paolo. Ringrazio gli organizzatori eh per l'invito e la possibilità di raccontare eh qualcosa sui metodi eh che sono la base della determinazione del deflusso ecologico in questo in questo bellissimo scenario in questo evento molto molto interessante. Il lavoro come diceva il professor Salandini ha due mani eh ed è significativo secondo me il fatto che eh uno di noi cioè io sono ingegnere idraulico e la collega Cristina di uno è ecologa e biologa. Un aspetto fondamentale prima il professor Napolitano parlava eh delle conoscenze che si sono evolute che hanno anche portato quindi all'esigenza di spostarsi diciamo dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico. Questo nasce anche perché si è iniziato a capire che per affrontare un problema che riguarda la qualità ambientale nei corsi d'acqua bisogna mettere insieme diverse discipline. Quindi nel mio intervento andrò appunto a toccare eh brevemente eh il tema dei prelievi idrici perché pone eh appunto il problema del rilascio e quindi del deflusso ecologico eh presenterò un po' questo approccio interdisciplinare che ha diversi nomi noi lo chiamiamo ecoidraulica ma si usa anche ecoidrologia, eco-morfodinamica esistono eh si è sviluppata negli ultimi trent'anni una un ambito scientifico che è al contatto fra diverse discipline che hanno lo stesso oggetto di studio cioè il corso d'acqua. Eh andrò quindi a eh vedere forse l'approccio principale proposto all'equidraulica che si basa sul calcolare eh l'habitat disponibile in un corso d'acqua in funzione della della portata disponibile in aldeo. Eh uno sguardo a livello mondiale perché la tematica ovviamente è molto importante molto sentita in Italia forse l'ho ancora di più a livello globale in cui molti corsi d'acqua che un tempo non erano sfruttati sono sempre più sfruttati eh la mappa che vedete mostra le dighe le grandi solo quelle di grandi dimensioni che sono eh pianificate o in costruzione e eh a questo eh diciamo a nella nella forte sviluppo di infrastrutture che condizionano i corsi d'acqua negli ultimi cinquant'anni abbiamo assistito a un declino molto preoccupante eh della biodiversità in particolare la la questa scia blu che vedete è il grafico che rappresenta eh come la cosiddetta megafauna i grandi i grandi pesci i grandi mammiferi che vivono negli ecosistemi di acqua dolci in termini di abbondanza a livello globale si sono ridotti del 95 per cento dal 1970 un numero che è abbastanza impressionante e eh allora uno può dire beh ma le derivazioni idriche bene o male non è una questione di bene o male ovviamente ci sono enormi vantaggi dal regolare i fiumi eh utilizzare l'acqua per diversi scopi produttivi ricreativi anche culturali eh se questo viene fatto in un certo modo può provocare delle degli effetti ambientali molto avversi e il tema del deflusso ecologico che riguarda proprio quant'acqua deve essere rilasciata e in che tempi in che modi deve essere garantita dalle derivazioni idriche nei corsi d'acqua affinché l'ecosistema goda di una salute dignitosa è il classico tema di trovare un bilancio in equilibrio fra le attività produttive per la società e la qualità ambientale e per non andare oltre diciamo quei limiti eh per i quali la qualità ambientale peggiora così tanto che se ne ha anche una diciamo una conseguenza poi a effetto boomerang sull'attività della società umana eh il il concetto se vogliamo su cui si basa eh o perlomeno i concetti su cui si basano il tema del deflusso ecologico con l'ecoidraulica sono forse visualizzabili in questo in questa immagine il grafico che vedete in blu è un andamento dell'idrogramma cioè l'andamento della portata nel tempo in un corso d'acqua prima di una regolazione e ci sono diversi disegni con diversi organismi viventi dai pesci agli invertebrati alla vegetazione che nel nel tempo negli secoli nei millenni si sono adattati a un regime di avverabilità che è in parte molto irregolare in parte anche predecibile a seconda dei climi evidentemente nel momento in cui c'è una derivazione un regolazione molto forte si passa un idrogramma che si vede appena poco che è la linea gialla questa è un'alterazione estrema e per fortuna non sono tutte così e chiaramente cambiare questo ritmo naturale di variazione di dinamiche di inondazioni di quantità idrauliche e di diciamo funzionamento dell'alveo può provocare una risposta eh da parte del dell'ecosistema fluviale che è un sistema dinamico quindi che risponde non non è statico se vogliamo anche a volte anche molto pesante e negli ultimi trent'anni si è sviluppata appunto questa eh area di discipline questa convergenza di discipline che mette insieme l'ecologia la geomorfologia studiale che fluviale che studia i processi di formazione degli alvei e quindi le diverse forme che gli alvei assumono l'idrologia eh che studia appunto il regime delle portate e il e l'idraulica che studia come una certa portata poi crea campi di zone più veloci zone più lente zone più profonde e meno profonde all'interno del corso d'acqua e oggi parliamo di eh derivazioni idriche ma la la questione riguarda più in generale quelle che sono chiamate alterazioni idromorfologiche tutte le alterazioni di tipo fisico sui corsi d'acqua ehm nel il diciamo il 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 deflusso ecologico riguarda soprattutto appunto le derivazioni e le derivazioni idriche eh ovviamente rilasciano in alveo una certa quantità d'acqua definita da una una disciplina come eh diceva il professor Napolitano è eh esistono molte deflussi molte definizioni di deflusso ecologico eh noi facciamo in Italia diciamo si fa riferimento come in Europa alla normativa europea che chiede eh secondo la direttiva quadro raggiungimento di un buono stato ecologico dei corpi idrici e quindi il regime di deflusso ecologico è un regime che è compatibile con il raggiungimento di questo buono stato ecologico eh si è verificato si è riscontrato però negli anni un problema rispetto a come misurare come quantificare il buono stato ecologico come definire che un corso d'acqua è effettivamente uno stato ecologico buono perché perché quando si è partiti con il monitoraggio ambientali eh lo stato ecologico è diciamo quantificato attraverso lo stato chimico fisico chimico la qualità fisico chimica dell'acqua che risente soprattutto dell'inquinamento lo stato idromorfologico quindi il grado di artificializzazione della della morfologia dell'alve dei prelievi e lo stato biologico che eh viene misurato attraverso dei cosiddetti bioindicatori questi bioindicatori sviluppati soprattutto negli anni 70 e 80 funzionano molto bene quando il corso d'acqua è soggetto a inquinamento i nostri fiumi i nostri corpi idrici erano molto più inquinati 30 40 anni fa di oggi grazie alla depurazione grazie a molti investimenti in questo ambito eh alle alle normative sugli scarichi nei corsi d'acqua oggi assistiamo a soprattutto nelle aree poi montane e pedemontane a eh una fortissima riduzione dei problemi di inquinamento ma ha una pressione diciamo antropica sui corsi d'acqua che è soprattutto di natura fisica idromorfologica e gli indici eh i bioindicatori sviluppati per misurare la qualità biologica risentono dell'inquinamento ma se togliamo acqua non risentono più di tanto di questo allora questo ha portato un problema da un punto di vista metodologico perché stavamo utilizzando delle metriche che dicevano solo fino a un certo punto come sta il corso d'acqua quindi per eh diciamo dal dal dall'ambito dell'equidraulica quello che eh è uscito in questi circa trent'anni di studi e di ricerche sono dei metodi che vanno a eh quantificare eh la quantità di habitat disponibile cioè eh espressa in metri quadri quindi espresse come un'area bagnata eh di habitat che è idoneo per una particolare specie quando parlo di particolare specie eh possiamo intendere dai tutte le forme viventi del corso d'acqua quindi dal dagli invertebrati ai pesci al a tutta la dimensione della vegetazione acquatica e ripania. Eh in questa in questa slide diciamo cerco di riassumere su cosa sono basati questi metodi per quantificare gli habitat che sono anche i metodi che sono stati scelti come metodi di riferimento eh dal distretto idrografico delle Alpe Orientali per l'attività di sperimentazione di cui parlava prima il collega il professor Napolitano. Eh eh questi tasselli che vedete sono i vari pezzi che compongono lo studio dell'habitat. Una prima parte in alto a sinistra è la parte geomorfologica. Bisogna descrivere e diciamo mappare con strumenti tropografici tutte quelle che si chiamano unità morfologica che sono i diversi habitat presenti e che sono determinati dalla forma, dalla morfologia dell'alveo. Questi sono determinati soprattutto dalle piene, dagli eventi in grado di mobilitare il sedimento che cambiano l'assetto dell'alveo eh con frequenze che che sono diverse a seconda dei corsi d'acqua che che osserviamo. Dopodiché interviene la biologia eh per una serie di specie di interesse eh che sono le specie che fanno riferimento al fiume, possono anche essere specie eh terrestri. Ci sono molti uccelli che nidificano sulle barre fluviali, sulle barre di sedimento per esempio. Eh quindi si possono studiare e quantificare anche in forma statistica perché eh stiamo parlando di specie viventi quindi l'incertezza è abbastanza alta evidentemente però è possibile quantificare e descrivere statisticamente le loro preferenze cioè quali sono le caratteristiche di questi ambienti, di queste unità morfologiche che dove il le varie specie si trovano più a loro agio, riescono a espletare i loro cicli vitali. Dopodiché eh interviene l'idrologia nel senso che eh la mappa che voi vedete di habitat si riferisce a un certo valore di portata ma se quella portata inizia a cambiare perché naturalmente cambia nel tempo, cambia anche l'andamento degli habitat e mettendo insieme queste componenti è possibile arrivare a un indicatore che questo indice che quantifica l'integrità di habitat che può essere utilizzato per sviluppare gli scenari di deflusso ecologico. Eh ci sono cinque concetti principali su cui si basano questi metodi. Eh ora ho fatto una carrellata diciamo dell'intero approccio. Il primo concetto è abbastanza semplice e eh ne faceva riferimento anche prima il collega. Eh nota un andamento delle portate nel tempo in una certa sezione di un corso d'acqua si può simulare come queste possono cambiare in seguito una derivazione nuova o in seguito a un cambio di regole della derivazione. Se la derivazione rilascia di più o di meno cambierà la serie delle portate che si troverà in alve. Quindi si possono realizzare degli scenari e l'approccio tipico di questi metodi è quello di lavorare per scenari e confrontare questi scenari e andare a stabilire poi quale scenario è migliore da un punto di vista ambientale, crea una migliore disponibilità di habitat. Degli altri concetti non li stiamo a leggere, li andiamo a vedere nelle slide successive. Il secondo concetto è che cos'è l'habitat? L'habitat è diciamo è definito da una serie di caratteristiche ambientali, il sedimento, la dimensione, la presenza di zone rifugio, la velocità dell'acqua, la profondità e le varie, differenti specie cercano condizioni diverse. Mi dicevano prima che l'anno scorso al Festival della Bonifica non c'erano i teli che ombreggiavano. Senz'altro l'habitat del Festival quest'anno dal punto di vista dell'irraggiamento e della temperatura per chi è in platea credo sia migliorato molto. Ecco il concetto dell'habitat è questo, dobbiamo pensarlo semplicemente rapportato a organismi diversi dall'uomo e all'interno dei corsi d'acqua. Sono tutte quantità che sono in qualche modo misurabili e quantificabili, alcune di queste con la portata variano perché se ho aumenti o diminuzioni di portata mi varia la profondità mi varia la velocità. Con queste misure, facendo tante di queste misure focalizzandosi specie per specie, quello che molti ricercatori in Europa e negli Stati Uniti hanno fatto in questi anni è sviluppare dei modelli statistici, dei modelli che legano proprio le preferenze per certe specie alle condizioni fisiche e ambientali degli habitat nei corsi d'acqua e quando parlo di habitat nei corsi d'acqua intendo l'intero corridoio fluviale. Siamo vicino al Piave, se pensiamo al Piave un po' più a nord di qua, l'alveo del Piave è molto largo, ci sono sia habitat acquatici, sia habitat terrestri, ci sono delle barre di sedimento, delle isole vegetate, delle zone riparie, dei canali secondari. Alla fine si arriva a avere con una grossa mole di dati, elaborata con questi nuovi metodi anche che consentono in qualche modo l'apprendimento automatico, cosiddetta machine learning, si riesce a prevedere la probabilità che una certa specie sia assente, perché l'habitat non è particolarmente buono, presente perché è idoneo o addirittura abbondante perché l'habitat è ottimale. La tipologia degli habitat è condizionata, terzo concetto appunto, non solo dalle portate, qui si parla di portate di magra, ma le portate di piena sono molto importanti, non sono regolate dal deflusso ecologico, ma sono le portate che poi determinano come nello spazio si strutturano questi habitat e le loro proprietà ambientali. Il quarto concetto, il penultimo, è che quindi descrivendo le singole unità, i singoli habitat, le proprietà ambientali che sono al loro interno e facendo questo esercizio a più valori della portata, è possibile trovare una curva molto semplice, una relazione quantitativa, e questo è l'aspetto fondamentale, che lega quant'acqua c'è in alveo, cioè la portata, a quant'è l'area di habitat disponibile, idoneo per una certa specie. Un esempio visivo, quindi questo è un tratto di un fiume appenninico, vedete il corso d'acqua è diviso in chiazze di colore diverso, quelle verdi sono habitat ottimali, gialle idonee, rosso non idoneo. Qui siamo un rilevo fatto a 400 litri al secondo, aumenta la portata 1400 litri al secondo, 4 metri cubi e 4 al secondo. Cambiano gli habitat, cambia la loro distribuzione nello spazio e cambia la loro distribuzione nel tempo, perché l'ultimo concetto è questo. È possibile, grazie al fatto che abbiamo una relazione fra quant'acqua c'è in alveo e quant'è l'habitat disponibile, se ho l'andamento della portata nel tempo, il grafico in alto, utilizzando la seconda relazione posso ottenere l'andamento dell'habitat nel tempo. Allora torniamo agli scenari. Posso quantificare l'andamento dell'habitat nel tempo senza il prelievo o con una certa regola di prelievo e poi posso sviluppare l'andamento, predire l'andamento dell'habitat nel tempo se cambio le regole di prelievo, per esempio le regole di rilascio, quindi per esempio il deflusso ecologico. Allora vado a confrontare quanto mediamente è cambiato l'habitat in un certo periodo, se cambio le regole di rilascio, o quanto aumentano gli eventi di stress per la fauna, per una certa specie target. Mettendo insieme queste informazioni è possibile sviluppare un indice che mi dice quando arriva uno stato ecologico che è buono e sviluppando questi scenari, quindi gli scenari di rilascio che corrispondono a uno stato ecologico almeno buono, possono essere utilizzati per calibrare i famosi coefficienti delle formule di deflusso ecologico. Questa è un po' la linea che stiamo seguendo sia come Università di Trento e anche come colleghi per esempio al Politecnico di Torino e in altri Atenei e come ricercatori nella sperimentazione che stiamo, in alcune sperimentazioni che stiamo affrancando sia qui in Veneto con l'ARPA, la Regione Veneto e anche i colleghi che poi mi seguiranno al mio intervento e in altre regioni italiane. Grazie. Grazie a te Guido, ringraziamo Guido Zolezzi per l'interessante presentazione e assieme a Francesco Napolitano ci hanno detto un po' come nasce e quali sono le ragioni o le motivazioni per cui dovrebbero ottenersi certi valori. Adesso sentiamo due persone invece che lo vivono in una maniera diversa, cioè che devono andare ad applicare e molte volte vedono anche questi risultati. Volevo chiamare Stefano Savio di Enel Green Power, area nord-est specifico, sostanzialmente, che ci parla sostanzialmente della produzione e della producità idroelettrica, quindi riferita a deflusso ecologico. Sì, grazie. Soprattutto sull'impatto che ha il rilascio del deflusso ecologico sulle derivazioni esistenti, non sulle nuove derivazioni ovviamente. Allora, una panoramica un attimo dei nostri impianti. Noi in Veneto, come area nord-est, abbiamo circa 73 centrali, abbiamo 90 opere di presa, 24 fradighe e sbaralenti, 450 chilometri fra canali di derivazione galleria in pressione, una potenza installata di 981 megawatt e una produzione di 3,5 teravattora. che quindi per essere un territorio così è una buona produzione. I nostri stakeholder li vediamo, sono 52 comuni, ma soprattutto i nostri impianti via via nel tempo sono entrati all'interno di aree protette del sito Unesco, quindi si sono dovuti ambientalizzare. Facciamo un passo indietro, io lo faccio leggermente diversa dal dottor Napolitano, perché parliamo di deflusso ecologico. Beh, il tutto nasce con la direttiva quadroacque, è del 2000. Noi, per quanto riguarda le nuove derivazioni, il nostro paese regisce solo col 152.06, dove va a modificare un articolo che dice che le nuove derivazioni sono rilasciate se non pregiudicano il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità. Poi qualche leggina regionale, ma praticamente niente. Nel tempo successivo, soprattutto nel decennio 2010-2020, sono nate una miriade di piccole domande, di piccole centrali elettriche, che ovviamente hanno causato all'Italia due procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea. Il Ministero dà subito indicazione ai distretti di uscire con le derivazioni direttive per sanare queste due procedure. Quindi abbiamo la procedura Leopilot, adesso non leggo da qua, scusatemi. Esce con le due direttive. Una è la direttiva derivazioni, chiamata anche direttiva ex-ante, e l'altra direttiva di cui parleremo oggi, che è la direttiva del flusso ecologico. Fin qua tutto corretto. Si sta parlando di nuove derivazioni. Se voi vi prendete le due direttive e vi guardate la parte iniziale del documento, si parla esclusivamente di nuove derivazioni. Però purtroppo viene introdotto un concetto. Dopo tre anni dall'emanazione, anche le derivazioni in essere, non in scadenza, devono adeguarsi, a meno che non provvedano a fare sperimentazione. Ma guardiamo un po' quali sono le derivazioni esistenti. Le vedete qui. Questo è il mosaico che potete osservare nell'androni di accesso della centrale di Soverzene, centrale in caverna. Sono derivazioni che partono, questo è praticamente tutto lo schema fatto dalla Sade, i tempi. Ci sono anche impianti che non sono stati fatti. I primi impianti nascono i primi del 1900. Gli impianti più giovani hanno più o meno 60 anni. In tutti questi anni si sono dovuti adattare al territorio, a normative introdotte, non per ultima l'obbligo di laminazione dei principali sabatoi montani, quindi l'obbligo di mantenere delle quote ridotte nei periodi autonnali. E li ho scammatizzati leggermente a colori. Qui vediamo obblighi di concessione, obblighi rigui, obblighi alimentali, obblighi per esempio di utilizzo, utilizzo dei laghi per scopo turistico. Quindi tutte queste cose qui sono andate a complicare un esercizio di questo impianto. È uno dei pochi impianti che è così un sistema veramente interconnesso gli uni con gli altri. Allora, cosa abbiamo fatto? Siamo andati subito a vedere cosa sarebbe successo applicando a tutti quegli impianti il deflusso ecologico, così come previsto dalla direttiva. Quindi avevamo indotte 11 anni di dati validati, di afflussi e deflussi. Abbiamo realizzato un piccolo modello di programmazione lineare e abbiamo imposto a questo modello i seguenti vincoli. Il rispetto del rilascio, quindi da tutte le opere di derivazione, il rilascio in alveo, il rispetto dei livelli imposti dai serbatoi per la laminazione nel periodo autunnale, il rispetto dei livelli minimi nel serbatoi come volume residuo, come si fa in condizioni siccità, nei serbatoi dobbiamo mantenere per la vita dell'habitat un volume minimo residuo e quindi il rispetto dei disciplinari, cioè il rispetto dei vincoli di prelievo verso i consorsi che abbiamo negli impianti. Cosa siamo andati a guardare? Siamo andati a guardare l'uso in riguo, cioè il deficit in milioni di metri cubi negli 11 anni di riferimento, oppure un indicatore molto più immediato, il numero di anni deficitari su quegli 11 che abbiamo analizzati per il prelievo in riguo. Poi siamo andati a vedere la fruibilità turistica, cioè se io vado da Auronzo di Cadore per intenderci lo trovo vuoto, primo anno ok, secondo anno buon, il terzo anno, quindi ho un forte impatto anche sul discorso turistico. Ovviamente siamo andati a guardare l'energia persa, teniamo conto che questi sono impianti idroelettrici, quindi è comunque un'energia rinnovabile. E infine siamo andati a guardare la riduzione del canone, perché se ho un minor prelievo ho una riduzione della potenza nominale di concessione, quindi pago minone arcana. Quali sono i scenari? Beh ovviamente abbiamo guardato lo scenario di oggi, lo scenario di E, che è l'applicazione rigorosa del metodo, poi siamo andati a prendere un'applicazione meno rigorosa, circa il 30% in meno, cioè abbiamo, siamo intervenuti solo sul fattore di protezione K, ponendolo pari a 0,10 anziché i valori a crescere. E poi siamo andati a vedere anche lo scenario di quando gli impianti sono nati. Questi sono i risultati. Mi avvicino perché purtroppo gli occhiali... Allora vediamo che per l'uso irriguo, negli 11 anni esaminati, abbiamo un deficit di 2100 milioni di metri cubi. Cioè vuol dire che 11 anni su 11 abbiamo deficit per uso irriguo. Per quanto riguarda la friabilità turistica, abbiamo 0 anni su 11 con i laghi a un livello adeguato per consentire il turismo. L'energia persa si parla di 930 gigawattora, quindi una forte riduzione di energia. Si pensi che l'energia persa dall'applicazione rigorosa equivalrebbe a costruire mille nuove mini centrali idroelettriche. E ovviamente riduzione dei canoni. Abbiamo uno scenario di E, 9 milioni di euro in meno per la comunità. Se anche andiamo però a guardare la situazione con uno scenario, un'applicazione di E meno rigorosa, vediamo che comunque all'uso irriguo un anno sì, un anno no, siamo in scassità. Sulla friabilità turistica non cambia, un anno sì, un anno no. Cambia un po' l'energia persa, si arriva a 660 gigawattora, comunque è sempre una grossa perdita di produzione. Guardiamo l'effetto ambientale visivo. Questo attualmente succede 1, 2, 3 anni su 11, nel periodo di siccità. Questo succederebbe 11 anni su 11. Questi sono i nostri laghi montani. Diga del Mis, Corlo e la diga di Pieve di Cadore. Allora, visto che potevamo fare la sperimentazione, siamo andati, siamo partiti per, abbiamo presentato un piano di sperimentazione. Qual è l'obiettivo? Ovviamente andare a vedere, verificare qual è l'effettivo stato ecologico dei nostri corsi d'acqua e attribuire in caso di uno stato ecologico buono, quel valore di rilascio come se fosse la portata del deflusso ecologico. In presenza ovviamente di uno stato ecologico non buono, valutare qual è il maggior rilascio e poi risalire all'impatto socio-economico che ne deriverebbe dall'effettuare quel maggiore rilascio. Ovviamente non potevamo sperimentare su tutte le 90 prese che avevamo, che abbiamo sul territorio. Quindi siamo andati a prendere i principali nodi, quelli dove abbiamo un obbligo irriguo o dove abbiamo la presa che alimenta un lago oppure abbiamo un nodo idraulico importante. Le prese minori sono state raggruppate per superfici sottese in modo da rappresentare tutti i gruppi, quindi con superfici di bacino sotteso da 10 chilometri quadrati, da 50 e da 150 chilometri quadrati. Tutti i punti di prelievo sono stati visionati e valutati con ARPAV. Abbiamo proposto di applicare tutte le metodologie previste dalla direttiva del flusso ecologico. Ovviamente le abbiamo applicate sia a monte che a valle delle opere di presa, tranne ovviamente per gli indici idraulici e morfoidraulici e il Niseci, l'indice ittico. Allora, questo è il risultato. Vediamo che il piano di esperienzazione è praticamente finito, stiamo tirando le ultime conclusioni. Vediamo che tutti gli indici di qualità ambientale danno risultato da buono a elevato in tutte le sezioni che siamo andati a monitorare. L'OIARI, questo non è un giudizio giusto, perché ho scritto general bad, very bad. In realtà sarebbe non buono e buono. Però cosa succede? Che anche andando a considerare i valori del DE, l'OIARI rimane non buono. Meso Apsim avremo i risultati a breve, perché sono in elaborazione presso ISPRA. Niseci anche questo, sono in elaborazione. Teniamo conto che questa sperimentazione avviene dopo VAIA. Quindi dal punto di vista della fauna, probabilmente un grosso impatto, una grossa conseguenza sui risultati della sperimentazione per quanto riguarda l'itiofauna lo riscontreremo. Conclusioni. Beh, abbiamo visto, il modello ci mostra una situazione molto critica. La sperimentazione ci dà gli indici di qualità da buono e elevato, non così per gli indicatori morfoidraulici. Dovremo valutare l'effetto socio-economico, quindi valutare se privilegiare il corso, il valore ambientale del fiume oppure la nostra società. Ma non è finita. Manca la direttiva derivazioni. Tutte queste derivazioni nel 2029 vanno in scadenza. Il 60% non verrà rinnovato. Grazie. Grazie per la presentazione decisamente impattante. Perché, d'altronde, non è che ci potrebbe nessuno aspettare altro. Perché se a un certo punto uno strumento, una diga, nasce mediamente 60 anni fa o 70 anni fa, sulla base di certi studi che non prevedevano certo né il deflusso ecologico né uno scopo di laminazione oltre quello che gli era stato destinato. E dopo le si vuole riconvertire, bisogna riconvertirli in una certa maniera, cioè non si può dire si riconvertono e basta. Quindi il discorso è molto complesso. Ed è molto interessante la presentazione è stata. Volevo chiamare adesso Paolo Vattagion, che è il direttore generale del Consorzio di Bonifica Piave. Anche lui, possiamo dirlo, che subisce un po' il deflusso ecologico oppure temi di doverlo subire nel futuro? Prego. Grazie. Bene. Ecco, il mio compito è quello di portarvi e di illustrarvi un'area del territorio. L'area del territorio, torno indietro un attimo, ecco qua. Questo è il comprensor del Consorzio Piave. Si trova nell'alta pianura trevigiana, diciamo in corrispondenza con la provincia di Treviso. È il contorno nero che vedete nella slide. Esattamente la chiusura del bacino montano del fiume Piave che oltre che il nome ci dà l'acqua, evidentemente. Vedete infatti in basso nella slide, che adesso ingrandisco, ci sono dei punti che ora lampeggiano e sono le tre nostre grandi derivazioni dal fiume Piave. Sono tre, sono robuste, sono significative, così come la legge li definisce, e danno luogo all'alimentazione di quelle reti che vedete in rosso e in verde e che innervano, innervano quell'area del territorio da parecchi anni. C'è un'altra linea su questa su questa planimetria che vedete ed è quella linea viola che taglia il nostro territorio circa metà. È la linea delle risorgive ed è importante perché è direttamente collegata con quello che noi stiamo sperimentando. Questa è la classica, è la classica sezione del nostro territorio, l'avete già vista in varie, in varie riproduzioni. Alta pianura, alta pianura, terreno molto permeabile, materasso quindi filtrante, bassa pianura, terreno più pesante, affioramento della falda. Ci troviamo proprio nella zona tra l'alta pianura e l'affioramento della falda. Una sezione fatta tra Montebelluna e il fiume Sile dà proprio evidenza a questo. Questo è il motivo che ha portato, pensate, nel 1436 la Repubblica Serenissima Veneta a decidere di operare quelle, di far fare, di costruire quelle due, quelle grandi derivazioni del fiume. Questa è una carta conservata, storica, conservata ai Musei Vaticani, 1640, la carta del Bleu, che mostra evidentemente già adesso, vedete in quei due punti lì, già a quell'epoca, i due punti con le reti derivate. Quindi stiamo parlando di storia, stiamo parlando di acqua che era stata portata in quei luoghi perché c'era bisogno di acqua da bere per uomini e animali. Questo si legge sull'edocumentazione storica. Primo bisogno, uomini ed animali da dissetare. Questo era l'antico sbarramento del fiume Piave, siamo arrivati, vedete quelle persone sono dell'epoca, una delle rare foto che abbiamo, Piave ricco d'acqua, lo sbarramento che consentiva la derivazione era fatto ancora con quelle modalità, legno, legname e materiale elitoide, sassi. E d'altra parte all'interno si stava sviluppando, questa è una carta del 1780, è il cosiddetto Prati, dal nome di chi l'ha disegnata, si stava sviluppando un territorio e quindi anche una realtà sociale che era direttamente collegata all'acqua. Quelle linee che vedete, che uniscono le varie, vedrete, dei punti rossi, sono delle chiese, i villaggi, quelle linee sono corsi d'acqua, corsi d'acqua che venivano derivati da in alto, la presa è quella di Fener, e venivano a consentire la vita in quei luoghi dove nella realtà l'acqua mancava. Perché mancava? Per quella motivazione legata all'estrema permeabilità dei suoli, non consentiva di trattenerla. Pensate che lungo tutta questa area non c'è idrografia naturale permanente, quindi tutto quello che c'è è dovuto alle derivazioni. Derivazioni che, parliamo di oggi, ci consentono di produrre prodotto agricolo. Noi abbiamo 51.000 ettari irrigati con strutture fisse, a pioggia e a scorrimento. Lo dico sì, purtroppo anche a scorrimento, quell'antica modalità che forse conoscete, le canalette, chi gira dalle nostre posti li vede subito, le canalette che portano cospicui corpi d'acqua attraverso strutture costruite nel dopoguerra e ormai ridotte oggettivamente male. Per metà circa di quei 51.000 ettari sono irrigati a pioggia, cioè quindi strutture tubate, quindi reti a pressione, per metà canalette. Servite da quell'area ci sono 18.000 imprese agricole, 30.000 addetti fissi, 200 milioni di PLV, attenzione, produzione lorda vendibile, cioè il prodotto di quello che dà la terra. Questi non si riferiscono all'indotto, l'indotto sapete bene che potrebbe essere dieci volte tanto, quindi quella piccola l'area là, per quello che la derivazione consente di fare, ha un prodotto che solo di produzione ammonta 200 milioni. Lo dico perché? Perché questi sono i dati di fatto che noi abbiamo analizzato facendo uno studio piuttosto approfondito, servendoci anche di consulenze. Andiamo avanti. Sulle reti derivate, questa è un'altra slide che in qualche maniera presenta dei punti neri, ognuno di quei punti neri sono piccoli impianti idroelettrici, mini idro, il famoso mini idro, ne abbiamo 49 sulle reti derivate dal consorzio Piave, non nostre, non nostre, ce ne sono dell'Enel, Green Power, 5, ce ne sono nostre, 11 per fortuna, la rimanenza, circa una trentina, sono di proprietà di ditte private. Sono mini idro, producono poco, 21 megawatt totale della potenza media anno a 135 milioni di kilowattora anno di producibilità, sono numeri che sono una bazzecola rispetto a quello che avete appena sentito dal collega Savio, però sono piccole aziende che fanno di questa attività una fonte di reddito e che quindi è strettamente legata alla presenza d'acqua. Andiamo avanti, un'altra importante, non c'è solo irrigazione, non c'è solo produzione idroelettrica, c'è un territorio che vede dell'acqua che altrimenti non vedrebbe. E questa slide molto schematica mostra le due prese, magari non si legge, ma in alto Fener, più in giù Nervesa e due aree colorate con dei colori più o meno scuri. La prima area è quella sopra la linea delle risorgive ed è lì che c'è la prima area che viene interessata da derivazioni, ma le restituzioni delle derivazioni e la permeazione che esse consentono di fare attraverso un terreno molto permeabile alimentano l'acquifero indifferenziato con effetti anche su tutta l'area che vedete in giallo più scuro a valle a sud di Treviso e a ridosso della laguna di Venezia. Quindi quella parte sopra è il consorzio di Ave, che io dirigo, la parte sotto è un altro consorzio, il consorzio di acqua e risorgive, che vede legata la presenza d'acqua alle nostre derivazioni, per storia. Il fiume Sile che vedete tagliare proprio, il fiume Sile proprio nasce e si legge in tutti i libri, i documenti, il più grande fiume di risorgiva d'Europa. Benissimo, è vero, è il più grande fiume di risorgiva d'Europa, però è posto lì, guarda caso, alla base di un materasso molto permeabile con sopra derivazioni a carattere annuo. Non l'avevo detto, l'estate l'irrigazione dura tre mesi, quattro mesi, ma l'esercizio di quei canali che vedete è annuale, è annuale. Cosa succede? Che nei centri principali, siamo a Treviso, i corsi d'acqua che entrano in Treviso, ben noti corsi d'acqua, Botteniga, Siletto, Cagnan, Buranelli, e il Sile stesso che lo percorre proprio al margine sud della città murata, sono corsi d'acqua che contengono una quota rilevante d'acqua rilevata dal Piave. Pensate che il Botteniga che arriva dal nord ha l'80% d'acqua proveniente dal Piave. Il Sile stesso ne ha il 20%, dico questi numeri, sono documentati, abbiamo fatto ben due sperimentazioni proprio volte a misurare questa quantità. questa acqua qua deriva dal Piave. Lo dico perché poi ragioneremo anche sulle conseguenze che questo può avere. Alcune immagini, Treviso, Porta Fragiacondo, questo è il Botteniga che entra in centro, attraverso le mura. Il Botteniga che entra e si divide in Siletto, Buranelli e Cagnan. Questo è un esempio di quello che è del territorio che si è formato a nord di Treviso, lungo le sponde di corsi d'acqua. Questo è il Brentella, il canale Brentella a Montebelluna, vedete che si inserisce in un contesto, è un abito di se stesso perché si vede l'acqua scorrere in mezzo a un territorio coltivato. Ci sono delle aree, ci sono dei canali, questo è il canale del bosco, sotto una collina morenica naturale che lo percorre alla base della collina e che viene frequentata la strada anche per usi turistici, per usi per fruizione da parte dei frontisti, di chi ci sta là e anche c'è gente che fa strada per venire a correre lungo i 20 chilometri che affiancano questo corso d'acqua. Perché? Perché il territorio acquisisce un paesaggio di pregio proprio in virtù della presenza dell'acqua. Questo è Castelfranco Veneto, sono alcune foto, Castelfranco Veneto, le fosse, le fosse di Castelfranco Veneto, città murata, medievale, questa è tutta acqua, questo non è una percentuale, questa è tutta acqua che deriva dalla presa di Fener. La villa Revedin Bolasco, una delle ville più rinomate proprio vicino a Castelfranco Veneto, nel centro di Castelfranco Veneto, gode di questo meraviglioso panorama proprio per l'acqua derivata dal fiume Piave. Questo va detto perché è così. Vado veloce, l'abbiamo già detto, 2022-2027 è il periodo che ci aspetta, abbiamo a che fare con la direttiva quadroacque, con la direttiva dei flussi ecologici che entra in vigore il 1 gennaio 2022, con l'aggiornamento del piano di gestione delle acque che è l'altro elemento della norma che stiamo collaborando anche noi e che l'autorità di distretto sta mettendo a punto, tutto questo cosa comporta per noi? Comporta intanto l'analisi del dato così come è letto dai documenti legati al piano di gestione. Abbiamo parlato, i colleghi hanno parlato prima di stato chimico, buono o non buono? Io ho tracciato qui sopra lo stato chimico di Piave e di Sile e figura negli atti dei documenti del piano di gestione come buono in alcuni tratti sconosciuto. L'obiettivo di qualità stato ecologico buono, quello di prima era chimico, ora ecologico, il tratto di Piave che arriva fino a Ponte di Piave, fino a poco a nord di San Donà, è buono e in un tratto sconosciuto e addirittura cattivo a valle di Ponte di Piave, dove l'acqua fiora. Il Sile è sufficiente nel tratto che attraversa Treviso, fino a valle di Treviso. Perché lo dico questo? Perché dobbiamo tenere conto anche delle relazioni tra fiume e fiume nell'applicazione della direttiva. Perché? Cosa succede se riduco, questa è una bella vista della nostra opera di presa principale, quella di Nervesa. Vedete il Piave che l'attraversa, che lo sbarra, la derivazione in destra e il deflusso minimo vitale, ormai ne è stato ben parlato, che oggi viene rispettato a valle. Non ci siamo già adeguati dal 2005 al deflusso minimo vitale. Cosa succede? Passando dal DMV a DE, i numeri sono questi. Il DMV, cito solo due numeri, il DMV a Nervesa, 10 e 2 oggi, dalle comunicazioni già avvenute dal genio civile regionale, il DMV a Nervesa sarà, a partire del 1 gennaio 2022, dell'ordine dei 33. Dell'ordine dico. Perché? Perché è in corso la sperimentazione, deve ancora chiudersi, c'è la possibilità di intervenire su quel valore. Però vedete già che i rapporti sono quelli. Sono quelli. Tre volte tanto. Cosa succede questa cosa per noi? Ci sono degli effetti positivi e negativi. Positivi il miglioramento del stato ecologico del fiume Piave, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ma gli effetti negativi sono molteplici. Riduzione della portata disponibile, diminuzione della portata accumulata nei laghi alpini, perdita di produzione agricola. E vediamo alcuni. Questi sono i laghi del 2005, il lago di Pieve di Cadore vuoto, semivuoto. Il DMV oggi dà una stagione critica su 20. Con il DE avremo un anno su due di criticità. Criticità per noi vuol dire riduzione maggiore del 50% della portata derivabile. Quindi vuol dire non coltivare più. Minor produzione agricola. Con il DMV abbiamo visto, abbiamo circa 200 milioni di produzione lorda vendibile del solo prodotto. Con il DE abbiamo misurato un 46% in meno, ma non ha senso misurarlo così. questo da questioni agronomiche perché si sa che una ditta, un'impresa, se non ha un margine, non la pianta neanche, non pianta nulla, non pianta nulla, evita. Quindi totale perdita della produzione agricola nel caso in cui non ci sia disponibilità d'acqua. Minore produzione di energia rinnovabile, diciamo poco. Poco però per noi è tanto perché qui, perché ci sono ditte che vivono, imprese che vivono anche di questa produzione. Da 135 milioni di kilowattora ne verrebbero fuori 85 milioni in meno. Impatto sui servizi offerti, i cosiddetti servizi ecosistemici di cui non abbiamo ancora parlato, ma che sono tutte quelle, quei servizi correlati alla presenza d'acqua. E c'è quello turistico ricreativo, c'è quello estetico paesaggistico di cui abbiamo visto qualche traccia, qualche, su qualche foto. La bellezza del territorio, il paesaggio particolare, che in virtù della derivazione c'è in questi luoghi. La ricarica della falda, abbiamo visto il sile e tutti i corsi d'acqua e fiumi di risorgiva che vanno verso la laguna. C'è la diminuzione della restituzione, sarà evidente, le fossi di Castelfranco saranno così, in secca, questa durante l'asciutta annuale, in secca. Anche Treviso stesso, Treviso stesso è una città, città d'acqua Treviso, città d'acqua. Però d'acqua il rischio è di trovarci dal Cagnan, questo è un ramo del Cagnan, con una bella portata, a un praticamente fondo appena bagnato. Questo in soli sette giorni di assenza d'acqua. Sette giorni. Conclusioni, vado velocemente a conclusioni. Abbiamo formulato tutti questi impatti, raccolto tutti questi impatti in un documento. L'abbiamo messo a disposizione di tutti gli attori, tutti i nostri, diciamo, alle autorità, dalle autorità di distretto alla regione, all'ARPA, perché per noi è ora importante, è fondamentale passare da un'emergenza, quella che avevo evidenziato, a un sistema che abbia un nuovo equilibrio sostenibile. Non c'è dubbio, dobbiamo passare di qua. Dobbiamo fornire dati, informazioni nella massima trasparenza e collaborazione con gli altri attori istituzionali. Questo è il nostro impegno. Chiediamo però di attivare da subito i meccanismi di esenzione previsti dalla direttiva quadroacque, qualora sussistano le evidenze che vi ho appena illustrato, di esenzione anche temporanea, perché dobbiamo in qualche maniera scardinare la data del primo gennaio 2022, perché altrimenti l'anno prossimo a quest'ora non irrighiamo, per garantire la conservazione dell'acqua, degli accumuli. Quello che ha detto l'ingegner Savio prima era devastante, cioè non aver più l'acqua nei laghi alpini per noi sarebbe neanche iniziarla la stagione irrigua. Sperimentare a fondo la relazione fiume-territorio-fiumi di Risorgiva, quindi analizzare proprio quel rapporto che per noi è fondamentale in quest'area, visto le particolarità di quest'area. E qui dico, l'avevamo scritto da tante parti, recuperare le cave estinte con finalità di accumulo d'acqua. Ci siamo riusciti con una fatica tremenda in due casi, ma ce ne sono molte nell'alta pianura, cave estinte o in via di estinzione che possono fornire accumuli sostanziali, accumuli in qualche maniera rilevanti per l'attività irrigua. Ci vogliono meno ordine di grandezza di un milione, un milione e mezzo di metri cubi, quindi non piccole vasi, ma ci sono, ci sono. Potremmo fare anche questo, questa potrebbe essere una garanzia di accumulo fuori periodo nei momenti di crisi e infine il ridurre il prelievo dal piave a fine irrigui. Non c'è dubbio che le canalette vanno sostituite, le canalette vanno sostituite con impianti moderni, bisogna andare verso la goccia, bisogna abbandonare anche la pluviirigazione perché consuma, con quelle temperature che si presentano, consuma la goccia, ma per fare goccia servono impianti tubati a pressione che costano, per noi abbiamo stimato il costo, i progetti sono in via di ultimazione, sono 200 milioni di euro, la trasformazione di circa 22 mila ettari oggi irrigati a scorrimento, la trasformazione di questi comporta una spesa di circa 200 milioni di euro. Ci impegniamo anche a fare che cosa? A razionalizzare la distribuzione, perché dobbiamo usare metodi moderni per farlo, a far pagare chi usa l'acqua, questo è un principio della norma che dobbiamo, noi siamo in qualche maniera ai depositari di una concessione e dobbiamo fare in modo che paghiamo all'autorità, dobbiamo fare in modo che chi usa a sua volta paghi l'acqua, controllare gli abusi e infine per chiudere comunicare il valore dell'acqua perché bisogna cambiare atteggiamento, tutti dall'utilizzatore a noi, nel momento di usare l'acqua dobbiamo capire che se è a costo basso, se è in quantità sufficienti, dipende dal valore che riusciamo a dare. Io vi ringrazio, questo è il Piave l'altro giorno, il martedì 1 giugno a Salettuol qui vicino a Maserata, con Forta, lasciamo perché lasciamo un messaggio positivo, ci sono oltre 100 metri cubi d'acqua oggi e quindi va bene che sia così. Vi do appuntamento a settembre per un ulteriore approfondimento sul deflusso ecologico che organizzeremo e vi sapremo dire a tutti. Grazie. Ringrazio Paolo Batagion per la presentazione e per aver istituito questi dati. È chiaro che il problema è controverso perché è a fronte di una necessità, ovvero sia il DMV era un numero magico, sostanzialmente, diciamo magico perché era molto incerto nella sua applicazione, nella sua definizione, bisognava andare un po' oltre, andare un po' oltre probabilmente tenendo conto anche di quello che ricordava Zorezzi prima, tenere conto anche del problema degli habitat, dei problemi ecologici sostanzialmente. È chiaro però che così come si è proposto pone delle problematiche che sono evidenti. Quindi il problema adesso è trovare anche, oltre che cercare di individuare probabilmente dal punto di vista tecnico-scientifico i parametri giusti per individuare quelli che sono i limiti dentro cui poterlo applicare o una maniera più corretta per poterlo applicare, il grosso problema che noi abbiamo è anche di vedere che tipo di impatto, cioè questo deve convivere anche con l'utilizzazione che ormai è diffusa su questo territorio, in questo, adesso stiamo parlando del Veneto, ma potremmo allargarci per tutto il Nord Italia e non solo, sostanzialmente, e vedere che tipo di risposta hanno queste applicazioni anche sul territorio. Io volevo ringraziare tutti quanti gli intervenuti per le interessantissime presentazioni e arrivati a questo punto, non so se ci siamo previste pause o se passiamo immediatamente alla tavola rotonda. Grazie ancora, grazie a tutti per le presentazioni. Io non mi muovo sostanzialmente perché ho rubato il posto al collega Vincenzo D'Agostino prima che era stato trattenuto per un altro impegno, dovendo coordinare la tavola rotonda che è prevista a seguire. Facciamo una pausa? No, andiamo avanti subito, mi dicono. Perciò vorrei invitare immediatamente Francesco Cazzaro, se qui presente, perfetto, Francesco Vincenzi, Giampaolo Ballardi, Silvia Rizzotto e Enrico De Mori. Io, scuratemi, molto maleducato, non mi sono ancora presentato, sono Paolo Salandin, sono dell'Università di Padova, resto qua perché adesso sarebbe il momento in cui sarei stato chiamato ad esserci. Grazie infinite. Dunque Grazie a tutti. Allora, nell'attesa adesso ci raggiungerà immediatamente anche Silvia Rizzotto, ma quello che sta arrivando da quell'altra parte, se no non le danno il microfono. Allora, tavola rotonda, di spunti ce ne sono stati molti, notevoli e interessanti. Si sono spese poche parole probabilmente a fronte del perché del deflusso ecologico. Io se lo osservo così sembra una cosa che non si capisce bene a cosa serve o perché serve o quale sia la sua funzione. Allora, arrivati a questo punto, era stato ricordato prima brevemente, io mi credo che è un'altra parte di questa direttiva comunitaria che aveva un principio, come sempre dei buoni principi, si parte sempre, impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, proteggerli, migliorarli e ripristinare, proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali. credo che siano principi su cui tutti quanti ci possiamo trovare e riconoscere. Il problema è come questo viene applicato sostanzialmente, perché abbiamo visto che a partire da questo, dal 2000, abbiamo avuto dopo una direttiva dell'autorità del distrito idografico, in ottemperanza quello che era stato detto nel 2017, sostanzialmente, però a un certo punto abbiamo visto anche degli interventi che abbiamo fatto fino adesso, come ci siano problemi nella gestione dei bacini montani e con la stessa produzione idroelettrica. Ci sono problemi con la ricarica della falda, legate anche a un'eventuale modifica del sistema Enrigua, quello potrebbe portare dei benefici, diciamo, benefici, sì, diciamo che sono cento anni che noi probabilmente irrighiamo in un certo modo e diamo un certo contributo specifico alla falda, in quelle zone che si vedevano prima nel Trevigiano, se adesso lo riduciamo di dieci volte o di sei volte, perché passiamo un'irrigazione di precisione, un'irrigazione a pioggia, quella falda in qualche misura non verrà più ricaricata ugualmente, cioè mettiamoli tutti i problemi dentro. Ci sono problemi molto più ovale anche di intrusione salina, anche questo va ricordato, sostanzialmente. Allora, in tutto questo giro, io da chi partiamo? Non lo so, da Francesco Cazzaro, sostanzialmente, che vedo che mi guarda, che è il presidente dell'Ambiveneto e Acqua Risorgive. E' un tema sfaccettato dai molteplici aspetti, al di là di questo evidente difetto di possibilità di utilizzo della risorsa. Allora, prima facciamo vedere Nervesa, ma anche Fener, il rapporto è 1 a 4, 1 e 3, fra deflusso minimo vitale e deflusso ecologico, sostanzialmente. L'Ambiveneto, come pensa di muoversi per cercare di produrre soluzioni o di proporre per il momento anche soluzioni o che in che razioni pensa di muoversi e come intende interagire anche con le autorità, tra l'altro qui presente oggi? Beh, questo lo considero veramente un grosso problema per... Io onestamente ho avuto l'ardire di provocare un attimino dicendo che per i consorsi questo non è assolutamente un problema. Cioè perché per il loro lavoro loro sono chiamati a fare manutenzione ordinaria e straordinaria e applicano le normative che vengono emanate. Se però guardiamo al ruolo che stanno assumendo e che gli ha dato anche in Veneto la legge 12 del 2009, allora la faccenda cambia un pochettino perché ci troviamo preoccupare di molti altri interessi e favorire la soluzione di molti problemi che inizialmente non spettavano a noi ma spetta giustamente, i tempi cambiano e veniamo chiamati a collaborare per risolvere criticità. Io prima che da ambiveneto mi preoccupo molto della relazione che ha fatto il dottor Batagion, Paolo Batagion, ingegnere Batagion perché rappresento Acqua e Risorgive che è quel consorzio a valle del consorzio Piave e che ha acqua in tutta la sua quasi innervatura grazie appunto alle risorgive e alle derivazioni indirettamente attraverso le risorgive o direttamente grazie alle derivazioni che vengono effettuate dal Piave e che consentono tutta una morfologia del territorio che si è creata nei decenni, nei centinaia d'anni che tutti noi conosciamo. Allora, io posso capire che l'Italia è un paese un po' così come siamo abituati a dirci, però questa è una direttiva, si chiama Quadro Acque 2000, la 60 del 2000. Nel 2010 ci è stato chiesto di relazionare e riferire quali erano le aste fluviali fortemente modificate e quelle artificiali. E un minimo di attenzione su questo penso dovevamo averla perché sette anni dopo ci hanno detto guardate o ci pensate a mettervi a posto con quel che avete condiviso voi o andate in infrazione. Ecco, è un po' sempre la solita questione. Fino all'ultimo momento noi non ci preoccupiamo ma sì tanto riguarda gli altri. Purtroppo devo constatare che questa direttiva è stata un po' costruita sull'ambiente, sulle necessità, sulle abitudini di paesi che hanno premuto perché questo avvenga e forse anche ragione, anzi dal loro punto di vista sicuramente ragione, di paesi del nord Europa che hanno fiumi ed aste fluviali molto regolari nella loro portata. Cioè la modifica che hanno è quando c'è una grossa piena dovuta a grosse precipitazioni, ma è calata nella nostra realtà e sono fiumi principalmente naturali, naturalmente. Scusate il bisticcio di parole. Noi viviamo in una situazione un po' diversa. Noi stiamo parlando di derivazioni che danno acqua a tutto il Veneto praticamente e che interessano due aste fluviali che non sono statiche o diciamo lineari nella loro portata. Piave e Brenta sono due fiumi torrentizi. Nella parte estiva il Piave e anche il Brenta in alcune zone sono asciutti. Per quanta acqua possa arrivare, si allunga il loro tragitto per un chilometro. Ecco, io dico, questa direttiva può essere applicata ad un territorio come il nostro che è cresciuto grazie a queste derivazioni. Ecco, AMBI vorrebbe cercare di porre l'attenzione a nome dei consorsi e di chi abita in questa zona e si è sviluppato dal punto di vista sociale ed economico perché sono due le sfaccettature e trovare una soluzione. Io credo che la direttiva stessa la dà la soluzione, solo che noi dormiamo spesso volentieri, dormiamo e arriviamo a dover giustificare perché dormiamo. è difficile, è difficile giustificare perché dobbiamo, perché la normativa dice salvo che non mi dimostri che l'applicazione di questa direttiva provoca più danni del bene che fa. Bisognava, insomma, adesso dobbiamo correre e trovare le giustificazioni. A me dispiace questo e sto constatando, divago un attimino ma si collega a questo, sto constatando che per quanto riguarda il riutilizzo delle acque reflu, ecco, grazie ad AMBI nazionale e su interesse anche di tanti consorsi, questo non sta accadendo, cioè stiamo un pochettino ponendo all'attenzione all'attenzione di tutti il fatto che potremmo trovarci nelle stesse condizioni, arrivare tardi e dover rincordare problemi. AMBI, ecco, da questo punto di vista è riuscita a mettere attorno al tavolo un po' tutte le istituzioni e gli interessi per capire quale può essere una correzione, diciamo, accettabile a questa normativa da parte del nostro territorio. Beh, siccome Francesco Cazzaro continua a insistere il nostro territorio, il nostro territorio, muoviamoci, allarghiamo un po' l'ottica su piano nazionale, perciò Francesco Vincenzi, su questo aspetto, ossia su aspetti più estesi, a parte che viene da una regione molto vicina a noi l'Emilia-Romagna come origine sostanzialmente, ma in ambito nazionale sostanzialmente, come, che percezione c'è? Perché ad esempio io sono stato tanti anni nelle Marche e lì il consorzio è vissuto in una maniera un po' diversa, meno che da noi sostanzialmente. Come si muove? Sì, innanzitutto partirei con una riflessione. Oggi è stata una giornata importante dove sono state affrontate due tematiche principalmente. Stamattina il riuso delle acque reflue e oggi pomeriggio il tema della direttiva quadro acque, quindi del DMV e del DME. Tutte e due queste direttive ci mettono, secondo me, ci mettono nelle condizioni di dover partire da una riflessione. Che purtroppo l'Italia non ha fatto l'Italia quando era in Europa a discutere queste questioni. Perché noi oggi ci troviamo a discutere di questioni che se le avessero chieste nel 2000 chiunque di noi, mentre c'era la discussione in atto, molto probabilmente quella discussione oggi non ci sarebbe. Perché non sarebbe stata fatta in questo modo. Invece nel 2000 evidentemente eravamo impegnati in qualche campagna elettorale, perché se guardiamo quante campagne elettorali facciamo in un anno, forse, non sto una stupidata, ma quasi ogni anno ci andiamo vicino a dirne che ne facciamo parecchie, va bene, e non eravamo attenti a quello che l'Europa stava scrivendo. Che cosa sta scritto l'Europa? L'Europa ha scritto una roba molto chiara. Ha scritto quello che gli faceva comodo a dei paesi che nulla hanno a che vedere con le nostre caratteristiche. Di un paese come il nostro, che è un paese del Mediterraneo, che non si può parlare di acqua nel nostro paese come parlavamo. Io dico parlavamo, perché poi arriva una riflessione successiva. Come parlavamo in Germania, in Danimarca o allora in Inghilterra. Non possiamo parlare in quei termini, perché abbiamo una piovosità, abbiamo un territorio, abbiamo un clima completamente diverso da quello che era in quelle regioni. Ma loro evidentemente erano nel tavolo a discutere di che cosa dovevamo fare. Noi se andava bene o non c'eravamo, o altrimenti remavamo contro il nostro paese. a scrivere questo nome. La prima riflessione è che noi dobbiamo, se stiamo in Europa, vivere l'Europa in modo diverso di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Altrimenti ci troveremo ogni giorno a discutere di un rischio in frazione che il paese sta correndo. Non possiamo pensare di stare dentro un gioco dove noi giochiamo da soli e tutte le altre squadre giocano da un'altra parte. Altrimenti la partita la perdiamo dall'inizio. È chiaro che oggi vi dico che la percezione che c'è in tutto il paese è una percezione di forte preoccupazione. Ma forte preoccupazione da tanti punti di vista. Dal punto di vista che tutti noi sappiamo che in alcuni territori, dove ha raccontato il Presidente, ma potrei citarvi del nostro, ma in tanti territori della Lombardia, della Toscana, dove i nostri fiumi non sono fiumi con delle portate eccessive, ma sono fiumi con caratteristiche torrenziali. Quindi il nome stesso fa sì che l'acqua in alcuni periodi dell'anno non esiste già da sé. E quindi oggi andare ad applicare una direttiva così stringente sui nostri territori, in alcuni territori del nostro paese, credo che debba essere valutata meglio di quella che è stata fatta. Poi abbiamo tutto il tema dei Delta. Il tema del Delta, con la risalita del pugno salino, è un altro tema che di fronte ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo, è un altro tema che dobbiamo inserirlo in questo percorso di gestione dell'acqua da monte a valle. Perché poi l'acqua, dipendentemente da quello che dice l'Europa, va sempre alla bassa. Quindi non è che cambia il suo percorso. Però è chiaro che vuole messo all'interno di un orologiamento ben più ampio rispetto al limitarsi. Poi apriamo un altro dibattito. Io apro anche un dibattito ambientale. Perché qui è il dibattito dove noi dobbiamo imparare ad entrarci senza la paura o il timore di essere smentiti o addirittura accusati. Perché io apro un dibattito della dignità, di un pesce che abbiamo in un nostro canale rispetto a quella che abbiamo in un fiume. Eh, signori miei, io sono un pesce che abito in un torrente, in un torrente posso vivere. Io sono un pesce che abito in un mio canale, devo morire perché l'Europa mi ha detto che l'acqua la devono lasciare nel fiume. Io credo che qui qualcosa, anche dal punto di vista ambientale, una riflessione, al netto che dobbiamo parlare degli effetti sossistemici, dei benefici ecosistemici, di tutto quello che abbiamo detto delle esternalità positive sul tema dell'irrigazione. Possiamo parlare di tutto. Però dobbiamo rimettere, secondo me, al centro un dibattito che non parta solo dal presupposto che l'agricoltura consuma l'acqua e quindi bisogna toglierla o fargliela pagare salata perché così ne usa meno, ma dobbiamo ragionare in termini un pochino più concreti e vedere quello che quell'acqua produce in termini di economia, in termini sociali e in termini ambientali. Prima però di passare la parola ai politici qui presenti, volevo ancora allargare ancora di più. Abbiamo sostanzialmente un delicato ambiente e paesaggio del Fondo Ambiente Italia, del FAI. Abbiamo parlato molte volte delle specie. Abbiamo detto che dobbiamo conservare e preservare le specie, però il deflusso ecologico nella sua generalità guarda anche altre cose, guarda il mantenimento di un habitat e habitat che anche i consorzi di Bonifica difendono. Ci ha fatto vedere prima Paolo Battagion, ovvero si parla molte volte di turismo legato al consorzio. Qual è l'idea sostanzialmente di Enrico De Mori su questo punto? Così lo allarghiamo tutto e allarghiamo ancora gli aspetti e dopo... Sì, io più che di turismo, di una fruizione turistica, parlerei di qualità della vita soprattutto, quelle che interessi molto di più. Beh, innanzitutto volevo congratularmi per la qualità degli interventi. Io ho preso anche punti perché mi sono anche interrogato sul tipo di contributo che avrei potuto dare essendo un cultore della materia, diciamo. E appunto questo potrebbe essere uno spunto di carattere più generale, culturale, come è nelle corde del FAI. Ecco, io credo, accolto da questa pluralità di interventi tutti molto specialistici, insomma, che forse abbiamo bisogno di un dialogo, di un dialogo anche interdisciplinare. Questa, secondo me, è la chiave, perché la realtà è molto complessa. Io personalmente credo che ci troviamo di fronte a una sfida epocale, ormai, diciamo, senza precedenti. ed è soprattutto questa visione, questa società tecnocratica che mostra i segni di decadenza, insomma. Ne abbiamo parlato al telefono l'altro giorno, ecco, io mi sono convinto. E quindi è necessario ritrovare un'armonia tra l'uomo e la natura. e gli scienziati parlano di questo modello di costruzione di nicchia, che è un modello ricorsivo e sappiamo come questi meccanismi ricorsivi siano anche molto fragili e anche, soprattutto, fuori controllo. E hanno declinato anche questo concetto di eredità ecologica, molto interessante. Noi molto spesso adesso parliamo di antropocene, che è quest'era geologica che è caratterizzata appunto dalle tante ferite che l'uomo continuamente infligge a questo pianeta, modificando questi ecosistemi. E quindi questo ci deve fare riflettere. Dicevo, è una deriva culturale sostanzialmente e credo che tutta la comunità scientifica. Ma sono anche ottimista perché vedo che la nuova scienza ci pone nuovi obiettivi. si prende le distanze da questo modello, da questa visione antropocentrista un po' boriosa e così, anche molto, come dire, incentrata soprattutto sulle esigenze dell'uomo e ci mette di fronte alle nostre fragilità. ci fa capire che stiamo vivendo in un contesto, in un mondo con degli equilibri molto precari. Sì, dopo bisogna che l'antropocene non sia declinato semplicemente in una mostra a Bologna, effettivamente lo guardiamo e lo guardiamo un po' più attentamente per quanto bello poteva essere quella mostra o sia stato. Devo dire che a parere mio, ma faccio un brevissimo intervento. Credo che noi interveniamo sull'ambiente, la nostra presenza stessa. Dicevamo ieri, camminiamo su un prato, stiamo calpestando l'erba, no? In qualche misura bisogna accettare la nostra presenza, bisogna trovare un modo di coesistere che è un problema. Alla fine, sì, possono venire fuori idee, proposte. Ne abbiamo sentite alcune stamattina molto interessanti, scusatemi, nel primo pomeriggio molto interessanti, io mi riferivo alle presentazioni prima, che però a un certo punto vanno tradotte, vanno tradotte in scelte, in opportunità, in decisioni politiche, perché sostanzialmente non è compito dello studioso il governo, ma è fornire degli scenari possibili a chi governa, sostanzialmente. Dopo, chi governa deve fare delle scelte opportune in questo senso. Se bisogna, credo, dotarsi degli strumenti, e questo credo che la scienza, la tecnologia siano fondamentali, però non dobbiamo dimenticare anche tante altre componenti che sono culturali. La matrice culturale è importante, perché sentivo parlare prima di territori e quindi c'è anche questa connotazione che è fortemente identitaria, no? della qualità della vita. Noi siamo, diciamo, il luogo dove viviamo e quindi c'è questo rapporto molto stretto. Se lo modifichiamo, e necessariamente lo modifichiamo, perché io sono un settore del fatto che il concetto del paesaggio ecodinamico è sempre l'esito di un modello culturale, è sempre stato così. Forse ci dovremmo interrogare qual è il nostro modello culturale, insomma dovremmo essere in grado di governare questi processi al meglio, tenendo conto anche di tante componenti e non soltanto quelle, diciamo, di carattere produttivo. Sì, sì, ma credo che Terro Evolute abbia ben in mente quest'idea, perché nasce da una visione storica e di evoluzione culturale di quelle che sono state le bonifiche proprio in questo territorio. Sì, la storia, ricordo sempre che abbiamo bisogno al ricorso della storia è importante, perché però non può essere deve essere anche interpretata, non può essere sempre solamente presa come, a volte è un po' la retorica quella della storia, lo usiamo come modello e così, però ha un senso soltanto se la sappiamo fare, riproporla e rivitalizzarla e in questo senso la tecnologia e la scienza aiuta come amplificatore. è vero, è vero, è vero, perché appunto in quella visione generale di cui si parlava prima, però nella prima parte di questa tavola rotonda sono state rivolte delle parole anche dure, c'era in Europa in quel momento quando a un certo punto dovevano prenderci le decisioni, perché sono state presenti le decisioni, che cosa stiamo facendo, come intendiamo muoverci in futuro. e partirei prima del signore da Silvia Rizzotto, Presidente della Commissione Ambientale della Regione Veneto per chiederle, so che lei è molto attiva in questo senso anche, quindi per chiederle che tipo di risposte può dare la politica, almeno quella regionale per adesso. Sì, intanto buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, il tema è molto interessante, abbiamo affrontato anche di recente proprio in Commissione e ringrazio in particolare anche l'Ambi per aver fatto un po' anche da TradUnion per sollevare questa tematica che ha ragione il Presidente Ambiveneto non riguarda soltanto la bonifica. Infatti è stato molto bello anche quegli interventi che ci sono stati prima perché hanno dato anche il senso del fatto che l'acqua è vita, è importante, è vero, serve, però non serve soltanto al mondo agricolo per dire non è solo il problema del Consorzio di Bonifica. L'applicazione così rigida di questa direttiva europea chiaramente non tiene conto delle caratteristiche particolari che ha il Veneto in particolare per quanto attiene il fiume Piave, il fiume Brenta, perché anche nel fiume Brenta abbiamo caratteristiche simili. Bisogna che ci sia consapevolezza e conoscenza. noi per primi, noi per primi amministratori tra l'altro dobbiamo capire, studiare, incontrare per poi prendere le decisioni, avere dei dati e prendere delle decisioni, ma anche i cittadini devono capire come può cambiare il nostro territorio se non abbiamo un uso consapevole anche dell'acqua e quindi evitare anche gli sprechi. Prima è stato detto per esempio anche cosa cambia anche nella vita normale di chiunque, anche chi non ha un'azienda agricola, sono interessate più di 40.000 aziende agricole tra il Piave e il Brenta se viene applicato il deflusso ecologico e avranno delle forti difficoltà per la loro attività. Come vi sono anche diverse aziende produttive perché non dimentichiamoci che ci sono anche delle aziende che utilizzano anche l'acqua per la loro produzione soprattutto nella manifattura penso anche alle cartiere per dire anche loro hanno messo in evidenza delle problematiche che hanno. Settore turistico è stato detto dei laghi e montagne ma c'è anche tutto un indotto dietro ma non è solo nei laghi e montagne ma anche nelle nostre città. C'è il Veneto è una regione bellissima straordinaria abbiamo delle città dei paesi che sono meravigliosi ma ci sono e sono nati attorno all'acqua tutte le nostre città murate prima ho visto delle immagini da parte del direttore del Consorzio Piave ha fatto vedere Castelfranco Veneto ma stessa cosa anche a Cittadella ma pensiamo anche alle nostre ville venete il nostro patrimonio di ville venete che hanno anche come caratteristica quella anche dei giardini delle fontane penso non so alla Villa di Piazzola Villa Contarini a Piazzola cioè anche quella non sarebbe più la stessa villa praticamente quindi anche quella è un problema però mettere insieme tutti questi elementi è importante poi anche un'altra cosa faccio un ceno solo che prima è stato citato mi è piaciuto l'intervento anche di Enel Green Power sulla situazione idroelettrica ai laghi di montagna ricordiamoci che i laghi di montagna servono sia anche per il turismo servono per la produzione di energia idroelettrica ma ci servono anche in caso di calamità naturali perché il Canadair l'acqua dove vanno a prenderla in più ci fanno anche da barriera a volte come cassa di laminazione quando abbiamo le piene cioè quando c'è stata la tempesta vaia non so se lo sapete siamo riusciti a salvare il ponte di Bassano andando a utilizzare il lago di Corno per fare praticamente la cassa di espansione perché c'era il cantiere in corso sul ponte di Bassano e la piena del Brent andava praticamente a creare danni anche al ponte di Bassano per dire quindi ci sono tutta una cosa che è concatenata l'una con l'altra ora si può derogare a questa direttiva la norma lo prevederebbe però dicono non in maniera generalizzata bisogna avere delle sperimentazioni bisogna portare dei dati puntuali e per questo io mi sento veramente di ringraziare l'Ambi i consorzi di bonifica che hanno fatto autofinanziandosi questi studi queste ricerche quindi il consorzio di bonifica Piave il consorzio di bonifica Brenta anche nel Green Power Nord Est che ha fatto tutto quello studio idroelettrico come regione Veneto ne abbiamo l'ARPAV che sta facendo delle sperimentazioni sul fiume Piave in zona Pederoba verso la presa di Fener zona Pederoba e sul fiume Brenta partirà a breve un'altra sperimentazione sono possibili noi confidiamo che si possano richiedere autorizzare però bisogna avere elementi dati puntuali forse saremo in ritardo non è mai troppo tardi l'importante comunque è che ci siamo che ci diamo da fare questo è l'auspicio che ci sia se ne parli sempre di più abbiamo consapevolezza di cos'è davvero il deflusso ecologico il problema che crea alla vita di tutti noi grazie chiamato grazie grazie per l'intervento chiamato in causa in maniera più che spista mi pare Gianpaolo Vallardi presidente della nonna commissione del senato mi pare che appunto ci sirva che a livello nazionale come ci stiamo muovendo in questo senso ovvero sia c'è una un'idea comune di come muoversi nei confronti dell'applicazione di questa direttiva o è possibile che venga ridiscussa anche a livello europeo perché io credo che certe volte se non ci siamo stati o se ne siamo accorti dopo una seconda chance ci possa eventualmente essere data per poter eventualmente portando dati e studi andare a discutere un problema sì grazie innanzitutto bellissimo interessantissimo il tema che abbiamo posto qui quest'oggi discorso è generale e credo vada affrontato sotto diversi sotto diversi aspetti il primo è l'importanza dell'agricoltura e credo che questo sia fondamentale proprio come punto di riferimento per poi aprire un cono ottico su tutti gli altri interessi dove la mettiamo l'agricoltura nel nostro paese io credo che dopo quasi due anni di lockdown si è capito che senza l'agricoltura non andiamo da nessuna parte in questo paese e quindi l'agricoltura la metterei forse al primo posto non voglio fare retorica dicendo che siamo usciti dalla prima guerra mondiale e anche dalla seconda grazie agli agricoltori siamo usciti dal lockdown chiusi in casa grazie al lavoro degli agricoltori che dopo medici infermieri penso di poterli mettere tranquillamente sul podio di chi non si è mai fermato durante il lockdown e da qui possiamo tranquillamente iniziare a ragionare anche per il futuro credo che assieme al turismo l'agricoltura sia una delle colonne portanti dell'economia di questo paese e quindi io l'agricoltura tranquillamente la metterei sul podio delle cose che in Natalia dobbiamo assolutamente uno salvaguardare due valorizzare e qui si apre come possiamo fare della buona agricoltura in questo paese ma gli agricoltori di questo paese hanno saputo sempre fare dell'ottima agricoltura perché se il Made in Italy se la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'umanità è merito della nostra agricoltura ma qui foriamo un po' sulla retorica ma anche sulla sostanza perché questa è comunque una realtà sarà sempre più difficile fare agricoltura se non facciamo investimenti e se non stiamo attenti a queste cose che sono di vitale importanza sì effettivamente l'acqua questo bene essenziale per l'agricoltura e per l'uomo ma io non la vedo una grande competizione tra l'industria l'agricoltura l'uomo quella dell'uso dell'acqua bisogna saperla gestire un po' meglio e questa è la vera sfida per il futuro chiaro che viviamo in un momento di cambiamenti climatici prima è stata citata Vaya come monito è successo speriamo non avvenga più però è anche realistico visto quello che sta che sta succedendo che qualcosa che speriamo non così ma possa anche ritornare in un prossimo futuro però dobbiamo imparare anche e capire che abbiamo anche secondo me le capacità per gestire e affrontare tutto questo sia dal punto di vista degli accessi idrici e quindi il lavoro dei consorzi di bonifica è secondo me essenziale innanzitutto complimenti perché se il Veneto ha resistito allo stress test di Vaya è anche grazie al lavoro che è stato fatto qui giochiamo in casa però effettivamente un grande lavoro lo hanno fatto in Veneto questo ma anche in altri territori perché apro una parentesi abbiamo fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda un'indagine conoscitiva sui consorzi di bonifica e devo dire che al centro nord la situazione è eccellente al sud un po' meno però al centro nord e chiudo parentesi il lavoro è stato fatto in maniera esemplare e quindi grandi investimenti secondo me devono essere fatti devono essere fatti dal punto di vista idraulico perché sì effettivamente abbiamo dei picchi d'acqua dei picchi di precipitazioni dove dobbiamo conservarla l'acqua se ci riusciamo ma mi sembra che anche la regione Veneto stia lavorando molto in questa complimenti al nostro governatore Zaya ma non è retorica perché effettivamente ci tiene ci tiene moltissimo a questo a questo settore a tutti i componenti dell'amministrazione Veneta ma dobbiamo gestire l'acqua quando l'abbiamo in eccesso per usarla meglio quando non ce n'è ma usarla meglio quando non ce n'è significa cambiare i sistemi di irrigazione e qui l'agricoltura 4.0 all'interno del piano nazionale PNNR sembra che le risorse ci siano le stiamo vedendo concretamente in questi giorni e sono convinto ci saranno perché devo dire spezzare una lancia a favore del governo a gradi c'è Draghi c'è c'è attenzione si è capito effettivamente che grazie all'agricoltura riusciremo anche a progettare un futuro migliore per questo paese deflusso minimo sbagli fatti nel passato sono evidenti è anche evidente che questa Europa secondo me non ci è molto non ci è molto amica non so se vent'anni trent'anni fa quando sono state fatte queste direttive gli italiani lì c'erano ci sono poco ci sono stati pochi anche negli negli anni scorsi quando si è parlato di difendere di difendere l'etichettatura dei nostri dei nostri prodotti perché noi possiamo anche lavorare bene nel fare dei prodotti sani di eccellenza di qualità tra l'altro è una notizia di questi giorni abbiamo appena approvato anche il biologico è appena uscito dal senato la settimana scorsa quindi sicuramente un'agricoltura diversa che sta puntando sulla qualità dei nostri prodotti etichettatura dei prodotti made in Italy fatta all'unanimità poi quando arriva in Europa ci propongono le etichette a semaforo e quindi capiamo benissimo che c'è qualcosa che effettivamente non va forse anche il ragionamento del deflusso minimo è stato tarato su paesi dove le precipitazioni non sono certamente quelle italiane al suo tempo c'era l'Inghilterra sicuramente in Francia più e più che da noi così per l'Olanda e così per la Germania stessa ecco che quindi sicuramente va rivisto se ci riusciamo questo ora non ve lo posso non ve lo posso dire abbiamo fatto l'indagine conoscitiva sui consorzi di bonifica dicevo prima Francesco Vincenzi vostro vostro presidente volevo dire amico spero lo sia nel senso che abbiamo lavorato molto bene in questi in questi due anni assieme e potremmo farne anche sicuramente uno per quanto riguarda il deflusso minimo io porrei se voi siete d'accordo l'agricoltura è il centro delle esigenze di questo paese ma per i ragionamenti che facevo facevo prima l'agricoltore è questa figura io vedo anche una figura nuova dell'agricoltura per il futuro nel senso agricoltura 4.0 servirà nuova formazione e qui questa mattina c'era il prorettore dell'università di Padova complimenti perché dobbiamo unire l'informazione la conoscenza quindi la vecchia figura dell'agricoltore che magari non andava tanto a scuola viveva solo di detti di esperienza secondo me ci ha portato fino ad oggi oggi serve una nuova figura di agricoltore però una sfida che secondo me possiamo vincere possiamo vincere facilmente se tutti quanti lavoriamo nella stessa nella stessa direzione e credo che il convegno di oggi sia sicuramente un momento in cui questa indirezione la stiamo la stiamo indicando quindi complimenti e grazie per l'organizzazione chiaramente chiaramente credo che questo questo discorso sia molto ben accolto in questo ambiente è certamente vero credo che patrimonio culturale storia arte che si fondono anche con la storia dei consorzi di Bonifica molte volte vanno ricordati come parte fondante sostanzialmente di quella che è il nostro Stato italiano chiaramente il senatore parla soprattutto anche con quello con cui gli è più vicino gli sta a cuore perciò sto lì a questo aspetto accanto al quale ce ne sono molti altri però secondo me perché il consorzio di Bonifica non può essere solamente è l'agricoltore 4.0 o 5.0 forse o è qualcosa di più perché è molto di più questo terra evolute ti dice come ci sia una storia dentro ci siano aspetti culturali ci siano rispetto a questo trattare vive c'è un ambiente ci sono i nostri terreni qua attorno che sono cresciuti sono modificati con le persone che ci lavorano e credo che questo succeda molto nel vento ma anche in molti altri posti vedo che farei un giro farei un giro invece un secondo giro molto veloce perché se vogliamo stare nei tempi abbiamo una ventina di minuti non di più sostanzialmente all'irà di queste difficoltà che ci sono nell'applicazione del deflusso cioè gli studi prima ne abbiamo visti come promuovere e come lo farei inverso adesso abbiamo visto che c'è bisogno di fare studi per capire quali effettivamente sia l'impatto di questo deflusso ecologico per sull'agricoltura sull'utilizzazione industriale ma in rapporto al paesaggio anche molte volte ricordiamo anche questo e farei il giro inverso adesso partendo sempre da Gianpaolo Vallardi sostanzialmente per dire che tipo cioè come si intende promuovere questa attività di questi studi perché ovviamente quando si tratta di fare studi si parlava prima di studi volontari studi volontari durano poco e vivono poco perché sostanzialmente uno che si autofinanzia a un certo punto finisce i finanziamenti e chiude in qualsiasi cosa si tratti c'è possibilità visto che c'è questa necessità che è stata chiaramente espressa di avere anche o di trovare possibilità o di muoversi in una direzione fonti di finanziamento che coinvolgano questo ma dico anche mettendoci in proprio attività che sono quelle dei consorzi oltre che della regione oltre che dello Stato ma anche di enti culturali e perché no anche dell'università ma lo dicevamo l'abbiamo anticipato nel ragionamento di prima abbiamo fatto un ottimo lavoro per l'indagine conoscitiva sui consorzi di bonifica e credo che un affare assegnato dicevo prima al presidente Vincenzi lo faremo sicuramente a partire già dal prossimo mese perché credo e l'ho capito perché poi alla fine credo che frequentare e vivere i territori sia anche questo capire i problemi e poi portarli a Roma nessuno nasce imparato quindi bene questi tipi di manifestazione perché permettono anche a noi che in questo momento dobbiamo gestire a livello romano queste situazioni ci permettono di portare i problemi a Roma faremo dal prossimo mese un affare assegnato proprio su questo e l'affare assegnato è qualcosa che poi porta una votazione in commissione che generalmente il 99% dei casi poi finisce all'approvazione dell'assemblea e quindi impegna definitivamente il governo io credo che il problema sia evidente sia reale si sta amplificando chiaramente con i cambiamenti climatici quindi quanto mai basilare prenderlo e metterlo in pole position tra i problemi tra i problemi da affrontare mi impegno qua formalmente ma anche per il passato sappiamo che poi si tramuta in qualcosa qualcosa di concreto è chiaro che l'affare assegnato cosa cosa fa sì che ci sia una un'audizione di tutti i stakeholder portatori di interesse adesso parlano in maniera fluida quindi stakeholder e quindi a partire sicuramente da chi dal punto di vista tecnico anzi complimenti per il tavolo tecnico che è stato fatto prima perché ci ha fatto capire anche la professionalità di chi vive e gestisce questo questo settore sicuramente sentiremo un po' tutti e chiaramente anche anche l'università stessa non solo quella di Padova perché poi l'indagine conoscitiva è fatta a livello nazionale e generalmente nel giro di 4-5 mesi poi i tempi ce li fissiamo tra di noi riusciremo a portare qualcosa di concreto per non ha bisogno di grandi finanziamenti almeno in questa prima fase poi nell'impegno del governo vedremo come va ma bisogna anche essere ottimisti nella vita un po' di sano ottimismo aiuta tutti quanti oggi è già una bella giornata la primavera sta arrivando il lockdown è finito quindi un po' di sano ottimismo penso faccia bene a tutti io sono convinto che l'ottimismo sia fondamentale però a un certo punto ci vuole qualcos'altro anche oltre all'ottimismo ci vuole un supporto infatti ho detto anche l'ottimismo aiuta lo giro comunque andiamo indietro in questo giro inverso e la regione Silvia Rizzottoro sì beh come ho detto prima prima di tutto è fondamentale la consapevolezza del problema prima è stato detto anche da qualche professore che ha fatto la relazione serve un approccio multidisciplinare quindi questa come ho detto è una problematica che riguarda tutti riguarda tutti gli ambiti della nostra vita nessuno escluso e penso che bisogna che ci sia un impegno maggiore sia anche da parte nostra non non lo nego quindi su questo sicuramente sì per far sì che ci sia sempre più consapevolezza più conoscenza del problema più consumo consapevole di questa risorsa che non è illimitata e noi abbiamo già fatto una serie di di audizioni con tutti i soggetti coinvolti su questo tema e ho già portato il Consiglio regionale una mozione per impegnare eh la Giunta regionale a continuare con questa sperimentazione e soprattutto per arrivare ad una sospensione o deroga temporanea di questa direttiva europea questa è una parte e siamo rimasti anche d'accordo che dovevamo tenerci aggiornati e ritrovarci eh via via per vedere come come stanno andando questi studi e abbiamo impegnato anche una società regionale appunto l'ARPA per farli penso che bisogna poi impegnarsi un po' anche tutti gli ambiti come ho detto prima che va dal turismo che va dalle scuole che va anche la stessa protezione civile perché c'è anche l'aspetto eh quello della sicurezza eh c'è il settore dell'ambiente quindi è un approccio multidisciplinare e noi faremo la nostra parte di questo ne sono certo ci proviamo certamente e muovendosi indietro adesso che viene più facile perché e riallargando il discorso richiamando in gioco il file sostanzialmente ossia Enrico De Mori prima un collega Zolezzi sostanzialmente mostrava come gli aspetti non siano semplicemente su problemi di eh se vive un pesce o se vive un altro pesce o una forma qualsiasi ma sono problemi di habitat di specie diverse sostanzialmente questioni prettamente legate anche al paesaggio ovvero sia anche voi avete delle specifiche richieste eh o in che modo pensate di poter contribuire perché prima si diceva si toccano diversi aspetti no quali tipi di richieste siano dal punto di vista paesaggistico possono essere come ambiente struttura paesaggio legato anche a un altro degli aspetti adesso giustamente prima mi è stato detto non si parla solo di turismo sostanzialmente ma di qualità di vita sostanzialmente no che tipo di richieste potete mettere in campo sostanzialmente a rivolgere a chi dopo deve cercare anche perché a questi studi che vengono fatti sì diciamo che il FAI ha più attività diciamo oltre l'attività istituzionale che ci vede impegnati a volte anche in disegni di legge perché abbiamo collaborato per esempio il consumo del suolo con il WWF e così via poi c'è tutta un'attività capillare sul territorio diciamo che fondamentalmente la cerca di promuovere questa nuova consapevolezza una diffondere questo senso di appartenenza ai luoghi questa cultura ecco siamo anche molto spesso coinvolti in battaglie dove ci chiedono di intervenire in battaglie civili oggigiorno c'è un veramente un proliferare di comitati che si che si adoperano ecco da un certo punto di vista è anche interessante percepire che sotto la cenere dell'indifferenza insomma è anche una passione civile sempre di più perché vedo che la gente lo vedono nel nostro osservatorio sono sono sempre di più queste queste richieste fa discutere perché cioè fa riflettere perché queste istanze sono rivolte a un patrimonio che è un bene comune quindi dovrebbe essere anche a pannaggio diciamo delle istituzioni ecco che devo dire molto spesso sono latitanti quindi non è facile perché sono interventi a volte che richiedono una conoscenza noi siamo molto prudenti devo dire nel farci coinvolgere se valutiamo molto bene i casi e cerchiamo di intervenire con le competenze poi dicevo ci interviene a livello istituzionale appunto in tematiche molto particolari molto specifiche infatti c'è un aspetto proprio della fase di studio l'articolazione nel tempo del metodo distrattuale quello sul distretto che dopo un'applicazione su scala generale pensavo di andare a vedere sito per sito sostanzialmente come poteva essere applicato il defuso ecologico e credo che lì proprio in questo senso gli aspetti qualità della vita o gli aspetti più prettamente paesaggisti ambientali possano entrare e debbano entrare in gioco anche perché quegli aspetti sono l'evoluzione delle persone sostanzialmente che hanno abitato una terra per lungo periodo per me sono integrati e quindi è una stretta commissione fra chi ci ha vissuto e i luoghi stessi prima si parlava di antropocene ma antropocene probabilmente è quello non è quello precedente e l'evoluzione di questo credo che il concetto di tutela è cambiato molto rispetto al passato in evoluzione anche culturale anche questa l'enfasi non è più sui beni con la B maiuscola ma la convenzione europea del paesaggio ha un pochino decretato anche questa diciamo l'attenzione di porre l'attenzione sul paesaggio quotidiano quello che viene percepito dalla popolazione che è quello più vero insomma che ha una grande dignità e quindi l'attenzione è quella Fai per esempio ha dimostrato con il censimento della Guida del Cuore che ha avuto uno dei format più conosciuti che ha un grandissimo successo quanto la popolazione sia molto legata anche ai luoghi della quotidianità noi abbiamo prodotto questo censimento che ha messo in evidenza questo è diventato un po' come un palinsesto ecco si interviene poi anche con delle progettualità il fatto dicevo prima l'interdisciplinarità è importante promuovere un progetto di qualità anche questo è una una buona pratica lo facciamo nei beni della fondazione ma lo facciamo anche per esempio col censimento del cuore in questi interventi puntuali che ci vengono segnalati questo è diciamo una una sorta di di modello di intervento e che diventa anche generatore di buone pratiche grazie e e tornando e tornando le bonifiche da dove siamo partiti sostanzialmente ripartendo da un livello ampio prima per poi ritornare dentro un evento partendo prima da Francesco Vincenzi cosa chiedete di più sostanzialmente di che cosa avete bisogno per avete bisogno di aiuto o siete tranquilli autonomi autosufficienti io innanzitutto credo che possiamo essere noi d'aiuto alle istituzioni e alla politica per cercare di risolvere questo problema perché come ha detto prima il senatore Vallardi quando ci si mette insieme per fare un percorso positivo ci si riesce e molte volte viene anche viene anche bene l'indagine conoscitiva credo che ne sia stato l'esempio più concreto rispetto alla tematica che stiamo affrontando in questo momento credo che dobbiamo partire da un presupposto se è vero e io ritengo che sia vero che la crisi la pandemia ci ha insegnato alcune questioni che l'agricoltura è un tassello importante del nostro paese e dell'economia del nostro paese che la tutela del paesaggio che la possibilità di fruire il territorio in modo nuovo e diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi è veramente uno degli elementi principali che dovrà tener conto il nuovo modello di sviluppo che andremo a disegnare dopo la pandemia perché credo che siamo tutti consapevoli che non sarà più nulla come prima dal punto di vista economico se pensiamo alla globalizzazione se pensiamo all'era del consumismo se pensiamo tutta una serie di questioni che abbiamo toccato con mano quanto sia stato debole il nostro modello economico rispetto a una pandemia che abbiamo vissuto ecco se tutti noi abbiamo ben consapevoli siamo tutti consapevoli che questi devono essere diciamo così i punti di partenza per il nuovo il nuovo modello di sviluppo del nostro paese dell'Europa e del mondo io credo che rispetto a questa tematica dobbiamo avere il coraggio di come ha detto lei prima benissimo di riandare a fare una trattativa in Europa su queste tematiche dobbiamo andarci con quei dati e quelle sperimentazioni che abbiamo virtuosamente fatto nel nostro paese perché poi arriviamo magari un po' lunghi ma abbiamo dimostrato che quando ci si mettiamo le cose le facciamo cito per tutti Expo siamo stati arrivati col fiato alla gola ma poi dopo quando l'abbiamo quando l'abbiamo fatta e l'abbiamo vissuto abbiamo scoperto che siamo anche stati bravi stati bravi a farlo quindi credo che anche in queste in queste in queste in queste in queste decisioni ci sia da fare un percorso di questo tipo virtuoso noi come ambi mettiamo a disposizione del paese la conoscenza delle istituzioni della politica la conoscenza che abbiamo in questa materia la mettiamo anche a disposizione dell'Europa noi abbiamo costituito due anni fa proprio per affrontare queste tematiche un'associazione europea dei paesi del sud dell'Europa che si chiama Irrigans d'Europa dove noi abbiamo il segretario generale che è il dottor Batilani che è qua tra l'altro oggi insieme a noi proprio per andare a fare a seminare in Europa quella consapevolezza che il tema dell'acqua non deve essere un tema che sia gestito in modo settoriale in modo scusate unitario ma in modo settoriale stato per stato perché non possiamo pensare di poterci di poter fare un documento di pensare di fare una scelta che possa andare bene per tutti il vestito deve essere su misura su queste tematiche qua e noi dobbiamo avere un vestito da paese del Mediterraneo altrimenti questo noi non riusciremo ad uscirne quindi quello che noi oggi diciamo e soprattutto chiediamo di avere il coraggio di andare in Europa a dire che il nostro modello di gestione dell'acqua è un modello virtuoso siamo gli unici in Europa che siamo organizzati per la distribuzione dell'acqua in rigua e quell'acqua in rigua che noi oggi gestiamo è un'acqua in rigua che non dà solo un beneficio come lei ha detto all'agricoltura dobbiamo toglierci dal pensiero che oggi il consorzio di bonifica sia legato al mondo agricolo è ancora per fortuna io dico il mondo agricolo l'azionista principale perché è quello che ne sente il beneficio più vicino ma oggi stiamo parlando a una platea con i consorzi di bonifica che si chiamano cittadini che si chiamano istituzioni che si chiamano istituzioni del territorio noi su questo dobbiamo continuare a lavorare perché credo che i migliori alleati che possiamo avere su queste chiamiamole battaglie che non mi piacciono battaglie ma sono condivisioni per me di percorsi saranno i cittadini e i territori stessi perché quando capiranno e sapremmo raccontare perché l'altra sfida è la comunicazione ragazzi noi non ci dimentichiamo che il tassello principale e voi di FAI siete bravissimi con i luoghi del cuore che tra l'altro partecipiamo a tanto a livello nazionale insieme a voi capite come raccontano una questione il FAI la partecipazione dei cittadini il numero dei cittadini magari tanti altri piccoli soggetti non riescono a farlo pur presentando la stessa cosa ma perché hanno trovato un modello comunicativo diverso innovativo dove i cittadini e dove le istituzioni riescono ad accatturare questa persona e queste attenzioni e noi dobbiamo fare nonostante sia una tematica in me molto ma molto tecniche ma dobbiamo trovarci tra gli alleati oltre naturalmente gli agricoltori che credo che sia scontato soprattutto i cittadini il mondo il mondo della cultura perché anche questo è un tema culturale non indifferente e qui parlo di cultura perché qua si dà si dà scontato che tutto sia come vediamo oggi ma non è così se abbiamo l'acqua è perché qualcuno ha fatto degli investimenti in passato per portare l'acqua se siamo su questa piazza è perché qualcuno ha fatto delle opere di bonifica che oggi ci rende vivibile questo territorio e quindi tutto questo fa parte di un processo culturale importante che io mi auguro le nuove generazioni sappiano anche innovarsi nel comprendere quanto è importante conoscere queste queste materie seppur tecniche e magari anche di difficile di difficile non dico comprensione ma di difficile dialogo con le persone perché si fa meglio a parlare di cose un po' più semplici con le persone rispetto a tematiche tematiche così tecniche ma di vitale di vitale importanza grazie allora per ultimo chiude Francesco Cazzaro sostanzialmente che però ha una sfortuna perché mi è arrivata una domanda in chat adesso a sorpresa che è arrivata qua subito e la domanda la giro subito perché non avremo altro tempo per farlo perché dobbiamo chiudere la domanda è questa una sospensione o deroga della direttiva 2060 della CE ne avevamo fatto un cenno prima ma non credo che si parli di questo si parli semplicemente di una modalità di applicazione comunque lascio adesso la parola siamo ben chiari allora noi stiamo chiedendo una deroga per poter per poter concludere le cosiddette sperimentazioni diciamo vai sentite sì lo stesso magari facciamo un break che non passa va bene per poter avere il tempo dicevo di concludere quelle sperimentazioni e quelle diciamo verifiche che ci possano portare all'esenzione da questa da questa norma che è una cosa diversa dalla deroga perché ho sentito parlare di sì deroghe temporanee non è quello che chiediamo che chiediamo noi e e vedremo poi nel tempo come come poterci arrivare però adesso siccome il primo gennaio 2022 entra in vigore questa norma dobbiamo avere il tempo sufficiente per chiudere il lavoro che si sta facendo ecco la deroga sarebbe alla scadenza che noi chiediamo intanto però volevo tornare su un discorso riprendere anche mi è stato utile ascoltare un po' tutti anche per me come imprenditore agricolo oggi e capire no capire dare anche così lanciare un input che riguarda un po' il pensiero che penso di interpretare anche dei colleghi siamo se oggi siamo qua è perché il mondo della bonifica ha capito si è reso conto che deve operare in maniera diversa deve cercare un modo nuovo di operare sul territorio quotidianamente e l'abbiamo discusso ieri con il ragionamento sulla manutenzione gentile e tutti quei discorsi che facevamo perché ci siamo reso conto che forse è bene tener conto che non ci siamo solo noi umani ma c'è tutto un mondo che ci accompagna e che ci fornisce gli elementi per vivere come viviamo lo trattiamo male andremo a vivere male come stiamo andando a finire lo trattiamo bene probabilmente vivremo meglio e questo ragionamento i consorsi lo hanno capito e stanno intraprendendo molto bene questa strada tant'è che oggi all'ordine del giorno ci sono questi argomenti oggi qui a terre volute che è il nostro momento principale dove possiamo esprimere verso l'esterno i nostri pensieri e le nostre difficoltà nell'operare ma anche alla ricerca di collaborazioni come diceva il dottor De Mori che io ci credo a quello che ha detto il problema è che spesso e volentieri vediamo le cose da un singolo punto di vista ognuno dal suo e non riusciamo mai a far sintesi assieme e capire quale potrebbe essere un compromesso che mette d'accordo tutti una cosa che mi sento di riprendere proprio per cominciare a ragionare assieme è che dobbiamo sfatare questo ragionamento l'ha appena detto il presidente Vincenzi che l'acqua è consumata e serve all'agricoltura e i dati che noi abbiamo non sono questi i dati che abbiamo sulla quantità di acqua derivata rispetto a quella che viene utilizzata dall'agricoltura sono ben ma ben diversi e quel che sappiamo è che quest'acqua va a generare un ambiente in Veneto che è quello che vediamo se non ci fosse quale sarebbe l'ambiente generale delle nostre parlo da tutti i punti di vista perché noi abbiamo un'innervatura di diciamo arterie fluviali maggiori e minori che non lascia noi abbiamo il canone per esempio per l'irrigazione in acque risorgive viene pagato da chi è lontano 500 metri da un corso d'acqua e quindi può usufruire di questo però apre un altro scenario ancora che quello fermila no 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 ma voglio affrontarlo voglio affrontarlo ma non in questa sede credo perché andremo un po' fuori tema io voglio voglio affrontarle queste questioni qua perché non per così arroccarci come anzi anzi è lo spunto per dire guardate che se noi viviamo in un ambiente quale quale è e lo abbiamo anche maltrattato però c'è è grazie all'acqua che è destinata all'agricoltura destinata all'industria destinata a vivificare vogliamo affrontare questo argomento perché quando parliamo di riutilizzo come abbiamo fatto stamattina delle acque reflue in Veneto e soprattutto in questa zona ma già si fa da un bel po' perché altri perché chi mi dice dove scaricano scusate dov'è che scaricano i depuratori attualmente se non fosse in acqua corrente non potrebbero scaricare e allora e che l'acqua e quell'acqua là dove va a finire dopo sicuramente diluita ma le nostre nelle nostre campagne dove viene utilizzata per irrigare di cosa stiamo parlando io mi fermo qua su questi argomenti perché andare oltre ecco l'obiettivo dei consorsi è rendersi conto cioè i consorsi si sono resi conto che probabilmente l'atteggiamento va cambiato la società ha bisogno di cambiare e noi vogliamo essere una parte di questo cambiamento assieme a tutti però ecco dobbiamo un po' tutti abbandonare pregiudizi e soprattutto ecco se mi permette per chiudere ognuno faccia bene il suo mestiere e metta a disposizione le sue conoscenze di altri che hanno altre altre preparazioni e altre conoscenze e facendo sintesi forse riusciremo ecco a migliorare sicuramente penso la situazione lo scopo di questo di questo festival di terre evolute è questo è questo non c'è altro allora sono assolutamente convinto dell'Italia dell'acqua è il mio mestiere io ci vivo sostanzialmente sull'acqua e sono un ingegnere idraulico e volevo innanzitutto ringraziare tutti quanti voi per la vostra partecipazione quindi Silvia Rizzotto Francesco Cazzaro Enrico De Mori Gianpaolo Vallardi Francesco Vincenzi grazie a tutti grazie a tutti per le occasioni di spunti interessanti sarebbe da fare un altro perché ci sarebbe molto ancora da dire però i tempi non ci sono ci richiamano fortemente a questo siamo usciti già io sarò picchiato per questo dopo ma ci vuol pazienza capita sempre così grazie di nuovo una comunicazione di servizio allora chi è già chissà di essere invitato alla cena offerta dall'ambi veneto dall'ambi nazionale alle zanzare voi sapete che sarete pasto per le zanzare dobbiamo trovarci tutti alle diciotto e trenta davanti alla locanda per avere l'autobus altrimenti ognuno con la propria macchina ma è bene partire non più tardi delle diciotto e trenta perché ci vuole circa un'oretta per arrivare in Valle Liona se avete dubbi mi contattate buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti